Buonasera a tutti e porto il saluto del presidente Massimo Vingenzini che era impegnato all'ultimo momento in un'altra seduta e mi ha detto di salutare questo pubblico che finalmente numeroso incomincia ad affluire in questa sala. Il rappresentante della CIA si è fatto vivo per via telematica quindi si collega per via telematica e evidentemente dal numero di adesioni che abbiamo avuto tra remoto e presente vuol dire che non abbiamo sbagliato ad organizzare questa giornata evidentemente la riforma della PAC e la gestione della fauna selvatica rappresentano un argomento sentito. Io non voglio togliere tempo prezioso all'uditorio per cui darei innanzitutto la parola al presidente della Federcaccia che abbiamo l'onore qui di avere rappresentato e le facciamo accomodare di là sì o qui prego prego venga presidente grazie professore buonasera buonasera a tutti voi eh devo ringraziare particolarmente l'Accademia per aver diciamo così aderito ad una riflessione che abbiamo sottoposto eh qualche tempo fa come federazione eh italiana della caccia ringrazio particolarmente il collega il vicepresidente Periccioni che ha seguito eh la questione per conto di Federcaccia eh da dove siamo partiti chiaramente siamo la federazione italiana della caccia quindi ci occupiamo di attività venatoria ma forti della nostra antica origine 1900 consapevoli dei ritardi che esistono ancora in Italia nostri di altre del movimento associativo venatorio nell'affrontare alcune tematiche che hanno diciamo così messo fuori linea con la sensibilità generale della cosiddetta società civile del mondo politico istituzionale l'attività venatoria ma direi più in generale le problematiche della gestione ambientale declinata anche in senso eh faunistico in realtà questo fuori linea questa riflessione che abbiamo fatto come federazione non è che è avvenuta solo su questo è che qui c'è ancora una questione irrisolta secondo noi nel panorama italiano forse europeo non so mondiale anche se la percezione è diversa per i motivi che poi durante il convegno voi stessi insomma eh esaminerebbe eh professore che cosa è andato fuori linea è andata fuori linea la considerazione e la percezione della cultura rurale rispetto alla cosiddetta cultura dell'inurbamento eh quando faccio un pochino in giro le assemblee con i nostri soci oppure mi interfaccio con i rappresentanti istituzionali per farmi capire con grande semplicità dico spesso è che quando si porta la cultura dell'appartamento in campagna c'è qualcosa che non quadra succede qualche cortocircuito di questa non adeguata considerazione e consapevolezza del valore della cultura rurale di quello che significa avere una cultura della cultura rurale derivano indirettamente ma poi anche direttamente alcune nostre problematiche fino ad arrivare ad una iperbole che in nome della conservazione e della tutela ambientale le stesse istituzioni spesso preposte a ciò favoriscono pensano propugnano e propongono atti i cui risultati vanno in senso esattamente contrario alla conservazione e alla tutela delle specie mi spiego in nome del fuoco anti venatorio quindi si porta la cultura del divieto come tante altre parti per esempio non si prende atto di una cosa dico questo perché l'abbiamo rappresentato ufficialmente in un tavolo di confronto con alcuni responsabili dell'istra istituto superiore per le ricerche ambientali che si occupa di fauna anche di fauna avevamo portato ad esempio la gestione delle valli del veneto del delta del po dove ancora si esercita un po di attività venatoria dove c'è un incremento costante anno di popolazioni nidificanti nidificanti di migratori perché c'è l'ambiente perché c'è chi lo coltiva l'ambiente c'è chi lo gestisce certo c'è anche l'attività venatoria con invece la fortissimo decremento di queste popolazioni in quelle aree o all'interno delle oasi cosiddette umite perché nessuno nel pubblico nel privato fa investimenti e dedica tempo e risorse per mantenere un habitat idoneo allora noi ecco vorremmo per questo che siamo anche rivolti chiesto collaborazione una riflessione intelligente ovviamente come la storia la cultura l'autorevolezza dell'accademia del geografo li dimostra un aiuto un contributo importante a far sì che si possa gettare un germe di riflessione nella società per dire cerchiamo da usciamo da questa cultura ormai ultra ultra trentennale della contrapposizione ideologica tra varie posizioni bellissima la parola del divieto invece che parlare di vietare parliamo del fare come pedercaccia vorrà all'ambizione di voler ridisegnare e così anche avvitare agli altri interlocutori una nuova concezione per quanto riguarda la gestione faunistica la gestione ambientale un nuovo rapporto tra caccia agricoltura un nuovo rapporto tra caccia società noi pensiamo che questo sia possibile qualora la discussione vada su alcuni binari che non siano quelli insomma i favorevoli contrari cioè uscire dallo stadio uscire dal tifo per entrare in un arena in un luogo in un tavolo in una università in un'accademia in una società in un consiglio regionale in un'aula parlamentare dove ci sia un confronto tra idee tra posizioni chiaramente per quanto riguarda noi per quanto riguarda la salvaguardia della biodiversità non parliamo di caccia parliamo di biodiversità devono prendere atto i nostri amici ambientalisti o animalisti più estremi che c'è una componente imprescindibile si può pensare come la si vuole favorevole contrari si può essere di orientamento di destra di sinistra di centro ma c'è una componente che è oggettiva lo è stato sempre lo sarà nel futuro gli attori principali della gestione dei risultati ambientali sono gli imprenditori agricoli ancora ma io penso anche nel futuro non credo che potremmo fare a meno di questa componente non credo che l'umanità potrà fare a meno insomma di questa componente specie nel mondo occidentale specie anche in italia quindi se non si fa un ragionamento forte di come coniugare la risorsa economica la produzione del pil derivante dall'attività agricola la gestione del suolo ai fini economici per quanto riguarda l'impresa agricola manca fini sociali per quanto riguarda la biodiversità e la gestione appunto ambientale corretta e se non si affronta laicamente questo tipo di tematica vuol dire non è un linguaggio consono professore mi scuso al luogo in cui ho l'onore di essere ma lo dico perché vedo che ogni tanto qualche amico giornalista resta colpito vuol dire che si predica ma non si pratica ecco noi vorremmo dare il nostro contributo affinché della parola biodiversità sostenibilità gestione parola magica gestione fossero tre concetti tre valori oserei dire tre progetti che vengono praticati ma non solo predicati concludo dicendo che ho anche diciamo così un'ambizione di rappresentare quella parte di cittadini italiani cittadini normali italiani che oltre a tutti i pregi e anche difetti del cittadino oltre a tutti i problemi che hanno tutti i cittadini oltre ai lati positivi che hanno tutti i cittadini coltivano anche una passione venatoria la cultura venatoria i saperi venatori praticano anche i sapori venatori praticano anche sapori venatori rispetto rispetto a questo e quindi vorrebbero laicamente confrontarsi con il resto della società con le forze politiche con le istituzioni per mettere al centro il risultato quindi noi siamo assolutamente so che è ridicolo dirlo ma lo ribadisco perché credo che c'è per la biodiversità per la sostenibilità è per fare della gestione un dogma noi siamo per gestire tante cose ci occupiamo della parte nostra per gestire siamo per trovare in passato anni sessanta settanta andava molto di moda scrivevano raginate giornali non riferita la caccia gli equilibri più avanzati una dottrina politica che ha imperato per qualche un decennio ecco noi siamo anche per costruire equilibri più avanzati oggi la fauna selvatica ma questo non lo dice il cacciatore lo dicono i dati i numeri i telegiornali i cittadini agricoltori oggi la fauna selvatica è un limite allo sviluppo dell'impresa agricola allora una risorsa considerata strategica appunto la biodiversità può in uno stato moderno in una società moderna essere un limite per le attività economiche in questo caso strategica quale può essere l'agricoltura punto interrogatorio secondo noi no secondo noi no ecco vanno trovate mutuando con rispetto la parola consumata per altre cose equilibri più avanzati anche sul campo della gestione diciamo così faunistica messa in relazione con l'esercizio dell'attività dell'attività agricola pensiamo che ci sia bisogno di riscrivere non ci saranno le condizioni però c'è l'esigenza la legge 157 92 pensiamo che vada modernata anche la 394 quella sulle aree protette che sono importantissime noi non siamo contro le aree protette è una discussione che appartiene a 30 anni fa abbandonata non l'abbiamo più coltivata oggi l'area protetta la consideriamo una risorsa se gestita un grande problema se non gestita ma solo tabellata anzi spesso nemmeno tabellata ma solo messa su una cartografia e basta ecco quindi quindi gestione su questo vediamo che ci sia un grande punto di lavoro in comune siccome vogliamo ridisegnare un pezzo del nostro futuro considero l'occasione di oggi professore un punto di partenza faremo tesoro delle emergenze che verranno poste all'avidenza dai relatori rispetto a questa riflessione chiaramente è stato colto il cuore PAC agricola comunitaria strategia agricola per quello che ho detto ovviamente ci siamo dentro mani a piedi vogliamo dire fare la nostra parte diciamo così fiduciosi quindi grazie per l'attenzione grazie per il contributo che potete dare e grazie ai relatori che interverranno grazie 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 a lei bene bene presidente per queste sue parole io darei la parola al dottor postorino che vedo qui in prima fila l'amico postorino che rappresenta una bella fetta del mondo agricolo prego grazie grazie orazio grazie per l'invito grazie alla presidente buconi per aver promosso questa questa giornata questa questa riflessione allora intanto devo scusare il mio presidente che è fuori 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 d'italia quindi non ha potuto partecipare ma la nostra presenza qui oggi ha un valore di rilievo perché finalmente riprendiamo ad affrontare un tema che prima o poi sarebbe di nuovo stato necessario prendere in considerazione però trattiamo giusto appunto dalla riforma della PAC una riforma che noi riteniamo sostanzialmente negativa ad iniziare dalla riduzione delle risorse che ci propone riduzione sostanziale e continuando con due elementi che noi ci aspettavamo che potessero essere presi in considerazione in maniera diversa che era quella della burocrazia e degli obblighi questa riforma della PAC sostanzialmente ci ripropone per l'ennesima volta oneri burocratici regole secondo noi poco inclini a risolvere i veri problemi della politica agricola ma anche soprattutto dell'ambiente diciamo che l'impatto la formula è sempre quella burocratica niente di più domande valutazioni da parte della burocrazia elenchi procedure ricorsi noi non riteniamo che questo sia la strada per poter per poter lavorare anzi la stessa interpretazione che viene proposta del Green Deal sul quale poi i relatori ci ci daranno qualche ci offriranno qualche riflessione è una una come dire un orientamento punitivo è come se l'agricoltura con quelle sue attività di fatto fosse avesse un impatto negativo non si tiene nessuna considerazione il fatto che grazie alle attività agricole sostanzialmente c'è un ritorno positivo soprattutto in cattura della CO2 che francamente non riusciamo a capire per quale motivo non viene presa in in considerazione addirittura in questi ultimi giorni qualcuno ha si azzardato a dire che noi di fatto soprattutto in Italia siamo autori di una sostanziale la deforestazione tutti soprattutto chi sta sullo territorio e chi va a caccia si rende perfettamente conto che è perfettamente l'opposto superficie forestale guadagna sempre di più terreno e quindi noi non riusciamo a capire alcune affermazioni le produzioni perenni gli investimenti arborei crescono continuamente quindi alcune affermazioni sono evidentemente pretestuose e orientate a tutt'altro che non a migliorare eh l'ambiente poi si ovviamente ci eh soffermiamo spesso sulla biodiversità sulle necessità di mantenere alcuni equilibri però poi nella sostanza tutti pensano che gli equilibri debbano rispettare gli altri è una come dire un vecchio adagio che eh il presidente Bugoni ha visualizzato con la politica dall'appartamento al al terreno purtroppo è così cioè le regole ma valgono per le discariche valgono per per tante altre cose l'importante è che si facciano eh operazioni che poi non toccano il nostro piccolo particolare e questo non è il modo per poter ragionare insieme anzi è il modo solo per divaricarci sempre sempre di più eh io presidente sono convinto come lei che ormai il la legge centocinquantasette abbia bisogno di un pit stop come si dice in in formula uno quasi trent'anni sono tanti eh il panorama delle popolazioni faunistiche in Italia è profondamente cambiato chi meglio di voi e di noi lo può lo può sapere è cambiato sotto certi aspetti meglio probabilmente non abbiamo saputo gestirlo perché eh direi che adesso soffriamo di una sovrabbondanza di di alcune popolazioni che incidono negativamente anche sulle popolazioni mi riferisco alla selvaggina nobile stanziale piccola che a meno quella che cova a terra è sostanzialmente condizionata da un'eccessiva presenza di questi di questi selvatici quindi a mio avviso il la centocinquantasette meriterebbe una piccola rivisitazione so che un un argomento delicato so che eh in molti ci hanno provato e eh non ci sono riusciti forse adesso siamo arrivati a a un momento topico dove tentare di fare un'operazione che abbia un minimo di eh di concretezza eh eh cosa cosa dispiace in tutta questa discussione in questa sala era presente ancora un colorazio si è discusso diverse volte di di fauna di controlli della controlli della fauna eh danni perché poi si scende sempre su questo dettaglio danni non risarcimento bene molte volte i tecnici eh hanno eh la scienza ha dato suggerimenti inascoltata non siamo mai riusciti a trasferire lo studio sul sul terreno sul sul territorio le soluzioni adottate come ormai è evidente non hanno dato effetti positivi anzi direi che in qualche caso hanno addirittura peggiorato direi che in alcune situazioni si sta assistendo e qua sì la scienza ci dovrebbe aiutare a una vera e propria destrutturazione delle popolazioni così come vengono effettuati alcuni prelievi come vengono chiamati io andrei andrei un po' oltre allora il il vero dilemma a mio avviso è che la politica è preoccupata del consenso e qua si gioca lo snodo è questo se il tema è il consenso non se ne esce nel senso che sicuramente ci sono delle difficoltà a adottare delle decisioni non è solo per per questo settore purtroppo cioè il consenso ha è assurdo ad un valore troppo alto a mio avviso capisco capisco la politica ma quando c'è qualcosa da risolvere c'è qualcosa da risolvere non si può aspettare sempre solo il il consenso e è altrettanto vero che il come dire il complesso degli interessi è vario su questo terreno si gioca una partita ambientale una partita agricola una partita venatoria una partita gestionale quindi è abbastanza difficile però se l'obiettivo non è come lei ha ricordato l'equilibrio ossia se non deve vincere di più qualcuno rispetto ad un altro noi non andiamo non andiamo da nessuna parte nel senso che sicuramente noi proporremo delle formule molto vicine ai nostri interessi voi proporrete le formule vicine ai vostri interessi un altro ancora ma non arriviamo la sintesi non la non la vedo ecco francamente se questo è l'ambiente in cui vogliamo in cui vogliamo ragionare quindi il partendo dallo stato dell'arte che è uno stato dell'arte evidente a tutti io faccio fatica a riportare alla vostra attenzione cose che voi conoscete conoscete quanto me abbiamo alcune specie selvatiche a me sono sempre di più eh praticamente nei centri urbani alla luce di quello che si che ci viene raccontato ora eh internet è una grande ricchezza ma in certo caso fa anche un po' di eh un po' di cattiva comunicazione perché mette in moto dei meccanismi reattivi eh poco piacevoli quindi abbiamo i salvatici in città ci si scherza anche su mandandoci video perché francamente siamo arrivati a questo a questo punto eh danni e incidenti non vengono riserciti non è non è accettabile che poi alla fine si crei questa eh questa grande eh reazione rispetto a questo abbiamo anche un problema di specie che non possono essere eh in alcun modo controllate che ora si è messo in moto un meccanismo non voglio eh eh bestemmiare in chiesa come si dice però noi questo problema del lupo prima o poi lo dobbiamo affrontare nel senso che non solo è incontrollabile e incontrollato ma poi eh alla fine in alcune aree è diventato un vero e proprio problema eh proprio in Toscana noi abbiamo riferimenti di aziende che eh sopportano regolarmente eh danni alla direi alla migliore esperienza zootecnica esistente oggi in in Italia che è quella semibrada e quindi noi condanniamo la qualità per non avere il coraggio di eh di intervenire è giusto? Ma io penserei di no nel senso che da una parte si condanna la la produzione zootecnica stalliva dall'altra parte si impedisce quella nostra leva di andare avanti non dobbiamo trovare una una soluzione dobbiamo trovare un equilibrio in tutto in tutto questo perché non si può sempre condannare tutto in un modo in un modo o nell'altro quindi la non gestione delle aree protette che lei ha ricordato è l'altro elemento importante perché noi possiamo fare tutti gli interventi che vogliamo eh nelle aree eh non protette ma se le aree protette continuano a essere dei serbatoi incontrollati e incontrollabili in qualche caso anche pericolosi però questo fortunatamente è una un passaggio che per adesso non ci eh non ci non ci tocca siamo riusciti in qualche modo a eh tenere eh ai confini la 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 peste suina eh però non non so non so fino a quando quindi eh per noi la peste suina sarebbe devastante perché al di là del dei cinghiali e dei maiali che verrebbero abbattuti noi perderemmo di fatto un mercato per le nostre denominazioni di origine che per adesso ha grande soddisfazione alle produttori quindi eh dietro un il problema della peste suina c'è c'è tutto un mondo che si potrebbe sviluppare eh eh negativamente e poi c'è la questione secondo me eh altrettanto delicata che voi avete anche in parte affrontato come mondo venatorio è quella della eh non gestione della ricchezza potenziale commessa alle carni della della selvaggita a me sembra anche questa una una questione non enorme ma di grande importanza sotto il profilo anche degli equilibri di carattere economico che comunque giocano un ruolo all'interno della nostra di questa di questa vicenda eh io penso che voi tutti sappiate che noi siamo importatori stranetti di eh carne selvaggina dal resto del mondo ma non dalla dei paesi dell'est Nuova Zelanda Australia dai cervi ai cinghiali ma eh dimensioni imponenti di di invito ad andare a guardare le statistiche istat quindi la domanda è cui proteste questo modello così negativo che non ci consente neanche di gestire in maniera adeguata lo so che ci saranno collegate delle delle regole che quindi si vorrà utilizzare questa carne ai fini sottolineo carne che non ha eh per la quale non si utilizzano gli antibiotici che non è soggetto a nessun controllo sanitario cioè tutte cosette che dovrebbero avere un valore che però spariscono in questo modo un po' estemporaneo in qualche caso clandestino di gestire la carne non va bene ecco non è non è in modo questo anche per la garanzia per le per la per i cacciatori per i consumatori per le famiglie per le famiglie eh in genere e poi c'è il il tema il vecchio tema della partecipazione alla gestione da parte degli agricoltori prima o poi ci dobbiamo entrare in questo terreno noi come sapete siamo l'unico posto nel mondo sottolineo dove gli agricoltori non hanno un ruolo attivo se non per un pezzettino penso che sia arrivato il momento di parlarne tenendo conto di alcune questioni abbastanza importanti che poi vi dirò molto velocemente io ho la sensazione che o facciamo un nuovo patto io partecipai al vecchio patto che in quella fase era forse l'unico possibile partire dalla 968 arrivare la 157 i tempi sono cambiati l'agricoltura è molto cambiata o si fa qualcosa oppure probabilmente avremo due mondi che si non confrontano ma si scontrano e non mi pare che sia il momento quindi un nuovo patto serve e un nuovo patto fatto su basi non voglio chiamarle paritarie ma un paio di dialogo perché se no non se ne non se ne esce e le nostre fra virgolette condizioni non esagerò nel dirlo sono intanto che si deve andare verso il riequilibrio delle popolazioni così non non riusciamo ad andare avanti noi abbiamo delle aree siamo in Toscana ne possiamo parlare dove ormai è tutto recintato dai dai le recensioni elettriche alle recensioni fisiche stiamo sciupando un territorio oltre a spendere tanti soldi stiamo sciupando un territorio non è giusto non è non è per niente giusto è effettivamente troppo ampio l'areale che ormai stiamo affidando ad alcuni ad alcuni selvatici quindi ci dobbiamo trovare parlare e capire qual è l'areale l'areale possibile i danni con la presenza dei cinghiali ci saranno sempre però più cinghiali ci sono più danni vengono avanti quindi dobbiamo trovare un equilibrio e soprattutto gli equilibri vanno a ricercare alla scienza sono loro che ci devono dire quante cinghiali per 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 ettaro se no non stiamo cinghiali io ho fatto qualche piano di assestamento faunistico che è sicuro che non è molto complesso ma ci deve mettere un po un po un po di testa l'altro l'altra idea è quella che gli agricoltori devono diventare attori diretti di questo fenomeno se non se sono attori indiretti subiscono e basta io penso che non non riusciremo c'è anche il tema che io non trascuro la salvaguarda delle tradizioni venatorie non si può la storia se bisogna creare le condizioni perché le questioni vadano avanti e vadano avanti in maniera equilibrata una battuta non governo emozionale se se ci facciamo governare delle emozioni siamo solo al far west e quindi le pulsioni vinceranno chi è più forte che è più capace di urlare vincerà non è la strada che noi vorremmo seguire per adesso non ci ha portato da nessuna parte quindi ho la vaga sensazione che perseverare diabolico grazie 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 dottor Pustolino darei la parola al presidente della CIA Giordano Pascucci che vedo online prego grazie professore sono direttore di CIA Toscana e sostituisco il presidente Scanavino e il presidente Brunelli che sono stati trattenuti a Roma per impegni non prorogabili riporto i loro saluti il loro anche augurio di buon lavoro e un ringraziamento all'Accademia e anche a Fidel Caccia per aver promosso questo incontro poter avere la possibilità non solo di intervenire di dire qualcosa come ora cercherò di fare ma soprattutto di ascoltare le interessanti relazioni che seguiranno avanti su due argomenti che sono di grandissima attualità come veniva enunciato da chi mi ha preceduto per due questioni che ci interessano diciamo una più direttamente che è il tema della pacca della riforma della pacca l'altra in maniera fortemente e pesantemente in diretta come il tema della gestione della fauna e dei sepatici in generale. È chiaro che un primo elemento occorre far riferimento a quelli che sono gli assetti e gli obiettivi. Se noi andiamo a vedere quelle che sono i criteri alla base della riforma della PAC vediamo che alcune delle parole chiave che venivano introdotte dal presidente di Fidel Caccia noi le ritroviamo non solo come esigenza obiettivo sulla parte faunistica ma le ritroviamo addirittura all'interno di quelli che sono i principi di riforma della PAC. Il tema della biodiversità con questa riforma la comunità europea si pone di valorizzare salvaguardare la biodiversità così come sul tema della sostenibilità diciamo che c'è praticamente tutto l'impianto della riforma della PAC. Ecco noi siamo d'accordo con la volontà e gli obiettivi di fare in modo che ci sia un avanzamento ci sia un avanzamento affinché questi queste due grandi filoni diciamo possono essere gestiti e ci possa essere un confronto perché la biodiversità se la comunità europea si pone di promuovere di salvaguardare la biodiversità dall'altra parte deve essere anche disponibile a modificare le norme europee che a oggi non tutelano a sufficienza la stessa biodiversità. quando parliamo di alcune politiche ambientali o alcune politiche di protezione per esempio dei selvatici a livello a livello scemerale perché quello che a nostro avviso oggi è messo fortemente in discussione che la stessa biodiversità è fortemente compromessa da quelli che sono le ricadute di una presenza eh fuori controllo non gestita una vera e propria emergenza della presenza dei selvatici ungulati e predatori in gran parte del nostro territorio. La Toscana veniva ricordato dell'esempio più eclatante ma ci sono altre regioni nel nostro paese che purtroppo vivono situazioni simili a quelle Toscana dove la presenza ormai è appunto fuori controllo eh nei centri urbani e nelle zone periurbane oltre che eh come dire mettere a suo quadro quelle che sono le produzioni agricole ma la stessa biodiversità quindi siamo d'accordo con sviluppare questo tema sviluppiamo questo tema facciamo in modo che le politiche regionali nazionali e comunitarie siano convergenti e vadano veramente tutte e due a tutela della bio della biodiversità. Ci trova quindi d'accordo l'idea di andare a rivedere alcuni pezzi alcuni obiettivi alcuni punti della legge 157 delle norme nazionali sulle aree protettive. Vediamo quali possono essere i punti noi tra l'altro siamo tra le associazioni che un paio di anni fa ha messo a punto anche delle proposte di modifica della 157 devo dire fino ad oggi con poco successo perché però penso di poter dire che a differenza di un paio di anni fa di quando noi ci siamo mossi sento che c'è più convergenza da parte delle istituzioni, delle forze politiche, delle altre associazioni venatorie agricole sul fatto di andare a cambiare la 157. Anche le stesse regioni si sono mosse qualche giorno fa approvando un documento in conferenza Stato-Regioni. Quindi è un primo passo, quando mettiamo a fuoco cosa va cambiato, cosa possiamo cambiare per fare in modo che vado velocemente a chiudere. Sul tema della sostenibilità si raggiunga quell'equilibrio che è necessario. Allora noi crediamo che, ma questo vale anche sulla riforma della PAC perché il tema della sostenibilità della riforma della PAC è molto presente, molti sono le norme che prendono spunto dalla tematica della sostenibilità. Noi crediamo che in chiave di sostenibilità bisogna ragionare non soltanto da un punto di vista di sostenibilità ambientale, ma bisogna ragionare anche da un punto di vista di sostenibilità economica e sociale per gli agricoltori e per la collettività e per anche i lavoratori quando sono ricompresi all'interno di questo ragionamento. Quindi il tema di affrontare in chiave sostenibilità ungulati, predatori e agricoltura ci trova anche qui convergenti, tenendo conto che ci devono essere individuate soluzioni che siano percollibili, che siano semplici, di facile attuazione, ma che non pregiudicano nella tenuta sociale ed economica di chi lavora in agricoltura e degli stessi imprenditori e degli stessi imprenditori agricoli. Quindi su questo pensiamo che si possa fare un ulteriore passo in avanti. Sul ragionamento dell'altro aspetto che introduceva il Presidente FederCaccia, quella della gestione, anche su questo siamo d'accordo. Sì, va gestita. Va gestita, va gestita sicuramente diversamente. Vanno riviste le norme, va rivista la governance, va resa più efficace. Bisogna gestire, parlava di equilibri più avanzati. Certo, equilibri più avanzati vuol dire intanto che si ragiona su tutto il territorio. Non si cerca di gestire un pezzo e basta. Bisogna gestire le aree protette, bisogna gestire le aree non coltivate, bisogna gestire la non presenza degli ungulati e dei predatori dove ci sono le colture. Credo che su questo bisogna, vanno messe in campo probabilmente strategie un po' diverse da quelle passate. Solo con l'attività ordinaria venatoria non si riesce a riportare in equilibrio l'attuale presenza di ungulati e predatori. Qui c'è bisogno di interventi emergenziali. Individuiamo quali possano essere, ma pensare che l'agricoltura, le imprese che sono già chiamate a competere in un mercato che sta cambiando, che sono già chiamate a affrontare la competizione che è già diversa negli ultimi anni, come dire, non possiamo pensare che questo loro sforzo venga in qualche modo condizionato o messo a rischio dalla presenza e soprattutto dai danni che vengono provocati dai selvatici alle attività agricoltura. Sappiamo bene che non potranno essere azzerati, il rischio zero non ci potrà essere, ma oggi l'indice del rischio è troppo alto, troppo alto perché c'è una presenza spropositata, quindi veniva richiamato prima dal dottor Postolino, dice diteci qual è la presenza ottimale di ungulati, di predatori, diteci voi esperti, voi accademici, quale può essere il mondo scientifico, quale può essere una presenza di questi selvatici che non pregiudichi l'attività agricola e non pregiudichi la biodiversità. Ecco, individuiamola. Noi abbiamo oggi un piano faunistico menatorio vecchio, vecchissimo, che parla di 2,5 capi ogni 100 ettari quando parliamo di cinghiale o di ungulare. Dire che sono dieci volte tanto è troppo facile dirlo e lo dico, ma non so di preciso, ma so sicuramente che sono molte di più. Anche qui andrà individuato, visto che c'è in discussione per esempio a Toscana il piano faunistico menatorio, credo che debba essere una discussione ponderata e l'equilibrio va trovato non dal punto di vista politico e basta, ma andrà trovato anche dal punto di vista scientifico. Bisogna tutelare le attività agricole, valorizzarle. Sicuramente occorre, mantenere e valorizzare tutte le forme di caccia, da quelle di selezione al prelievo fino ad arrivare al contenimento per tutelare appunto le attività agricole, mettere in campo la tutela, la prevenzione e il contenimento dei danni, facendo una gestione che sia avanzata, che si ponga punti di equilibrio nuovi. Però ecco, io credo che finisco. La lettura del contesto agricolo, che è cambiato in questi anni, da poco finito il censimento sull'agricoltura, ma altri dati si possono reperire dalle fonti regionali o dagli organismi pagatori. È cambiata la struttura delle imprese agricole, sono cambiate le coltivazioni. L'effetto dei cambiamenti climatici stanno mettendo fortemente in discussione i raccolti, le produzioni e i metodi anche di gestione delle stesse imprese. Ecco, noi abbiamo bisogno di governare questa situazione. E concordando con l'obiettivo di andare anche a rivedere le norme della 157 delle aree protette, che vanno fatte velocemente, ma al tempo stesso mi preme sottolineare che il mondo agricolo non può aspettare la revisione della 157, la revisione delle norme delle aree protette e la loro attuazione, che speriamo avvenga quanto prima. Ma comunque ci vuole un tempo, e si parla non di mesi, probabilmente si parla di qualche anno, che l'impresa agricola non può aspettare. Noi dobbiamo, questa emergenza della presenza dei selvatici, dobbiamo risolverla in tempi più veloci, immediati. Io credo che su questo c'è bisogno di mettere in campo le migliori azioni di contenimento che possano consentire a tutto il sistema, a tutta la società, come dire, di stare dentro queste due parole, questi due asset che sono la sostenibilità e sono la biodiversità. Perché in questo momento l'invasione di questi selvatici sta mettendo a rischio non solo la presenza delle attività agricole provocando danni economici, ma soprattutto sta mettendo in discussione la salvaguardia della biodiversità, che è un patrimonio immenso che abbiamo nel nostro territorio, nelle nostre aree rurali. Grazie della possibilità di poter intervenire, ascolterò con grande attenzione ai relatori su argomenti che chiaramente ci stanno particolarmente a cuore e chiaramente confermo la disponibilità a confronti e approfondimenti che vorranno essere promossi dall'Accademia o dagli organizzatori di questa iniziativa. Grazie. Grazie, grazie a Pascucci della CIA per questo suo toccante intervento. Noi abbiamo imitato anche altre organizzazioni di categoria che non so se si sono collegati online, se ci fosse qualcuno diciamo che non conosciamo in anonimo tra virgolette è invitato a parlare. In assenza io non perdo altro tempo e do la parola al collega Marco Apollonio dell'Università degli Studi di Sassari che ci farà, ne sono certo perché lo conosciamo già, un quadro sulla situazione della fauna selvatica a livello nazionale ed europeo. Grazie Marco Apollonio, hai la parola. Grazie, io vorrei ringraziare innanzitutto l'Accademia per questo invito che mi è molto gradito e mi scuso per essere a distanza, ma come saranno i colleghi periodi di lezioni e io subito dopo questa conversazione che farò con voi o tre ore di lezione che comincerò un po' in ritardo e quindi abbiate pazienza. Il tema che mi è stato assegnato è sostanzialmente un tema descrittivo, io cercherò di darvi il mio punto di vista nel modo più chiaro possibile, non potendo che condividere tutta una serie di cose che ho sentito a riguardo della situazione faunistica e gestionale italiana, in particolare quello che ha detto il dottor Pustolino sull'essenza inascoltata, direi che è qualcosa di estremamente vero e purtroppo estremamente attuale. Un elemento che ha caratterizzato fortemente, e questo direi lo conosciamo tutti, l'evoluzione del panorama faunistico non soltanto italiano ma anche europeo e di tutti i paesi industrializzati è stato ciò che voi vedete sintetizzato da questa riga sullo schermo, e cioè la fortissima diminuzione delle aree gestite dal punto di vista agricolo nel nostro continente. Questo tipo di fenomeno che ha ovviamente delle ragioni di tipo economico e sociale, ha anche delle conseguenze di tipo demografico sulla nostra specie, visto che la popolazione rurale in Europa non ha fatto che diminuire dalla fine della seconda guerra mondiale, mentre la popolazione urbana non ha fatto altro che aumentare. Tutto questo, considerando che, tanto per darvi un ordine di grandezza, in Europa ci sono circa 500 milioni di persone, parlo della comunità europea e ci sono 20 milioni di ungulati, evidentemente ha avuto una forza nell'indirizzare il cambiamento dell'ambiente in cui viviamo assolutamente incontrastata e incontrastabile. Se vogliamo riferirci all'Italia scopriamo che in tutte le aree collinarie e montane la popolazione umana è andata diminuendo fin da tempi piuttosto remoti. Voi vedete qui la cartina dell'Italia con indicazione dei comuni che hanno perso popolazione a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, prima metà del Novecento, metà del Novecento. In pratica, con la sola esclusione di alcune aree della pianura padana orientale, voi vedete disegnati i rilievi montuosi e collinai del nostro paese, essenzialmente alpi, appennini e qualche catena interna. Questo chiaramente ha portato allo spopolamento di cui abbiamo visto e ha portato soprattutto a uno spopolamento differenziale sulla base delle opportunità che venivano date alle popolazioni umane, rurali, di trovare un impiego nelle aree urbane. Quindi non sorprendentemente per esempio nel ventennio che noi denominiamo boom economico in Appennino abbiamo un decremento più che doppio di popolazione rurale nelle aree settentrionali dove chi abbandonava la montagna si trovava davanti dei distretti industriali importanti rispetto a quelle meridionali. Scene come queste sono assolutamente comuni nelle nostre aree montane, sia appenniniche sia alpine e insieme alla diminuzione della presenza umana in senso insediativo abbiamo avuto una diminuzione delle attività connesse con la gestione agricola del territorio. Quest'immagine che ho scattato di fianco a casa mia è abbastanza riassuntiva di quello che vi sto dicendo. Ciò che è successo in pratica è che molte aree agricole, in questo caso un vigneto, sono state dismesse con vendita delle quote relative e sostituite da degli incolti. Quindi si è passati dalla situazione che vedete sulla destra del vostro schermo a quella che vedete sulla vostra sinistra. Per dare sostanzialmente origine anche in aree con fortissima vocazione agricola come la Toscana ha questi paesaggi misti in cui abbiamo da un lato aree coltivate che si connettono con degli incolti destinati a restare tali nel tempo e dove evidentemente le condizioni ambientali mutano in modo profondo. perché? Perché, qui perdonatemi se torno indietro, quello che accade quando c'è questo tipo di fenomeno è che si instaurano serie serali che portano alla costituzione del bosco o meglio alla ricostituzione del bosco. e non è un caso che nel mondo l'unica tipologia di foresta che sta aumentando sia quella temperata, che è quella propria delle fasce in cui sono collocati i paesi industrializzati. l'Europa è tutta in fascia temporale, temperata. Se guardate ciò che accade alle foreste tropicali, che peraltro sentiamo ralmentare molto spesso sui media, avete un'idea come invece la distruzione primaria che noi abbiamo fatto in tempi storici molto lontani, parliamo ancora dei romani, qui si è ancora ampiamente in atto, mentre paradossalmente nei paesi più industrializzati la natura stia riprendendo il sopravvento. Ecco quindi che se andiamo a guardare, torniamo in Italia, qual è lo sviluppo del nostro patrimonio boschivo, scopriamo che la Toscana in 150 anni era più che raddoppiata. E se andiamo a guardare porzioni del nostro territorio con delle scansioni temporali di 50-60 anni, abbiamo l'immagine che vedete sullo schermo. Questa qui è la strada che dal Casentino porta in Romagna, che porta al passo della Calla, nel 1950 direi piuttosto evidente, e nel 2013 piuttosto poco evidente, visto che attualmente quell'area è completamente coperta da una foresta molto molto densa. quindi si ha questo spopolamento della campagna, aumentano le foreste e tutta un'altra serie di fattori che hanno interferito profondamente con alcune specie, mentre ne hanno favorite altre, lo vedremo, vengono meno. Una di queste per esempio è la pastorizia, la pastorizia soprattutto intesa come pastorizia brana, che è un'attività che in Europa è in decremento, ma che in Italia ha conosciuto dei decrementi abbastanza evidenti e drammatici. Pensiamo per esempio agli abruzzi, dove fino alla fine dell'Ottocento avevamo 3 milioni di pecore e attualmente abbiamo un patrimonio ovino, anzi ovicaprino, che è esattamente un decimo. Tutto questo evidentemente ancora una volta lascia spazio per gli animali selvatici, per alcune specie di animali selvatici. Dopodiché entrano in gioco tutta una serie di azioni consapevoli che noi abbiamo posto in essere per arrivare a un ulteriore incremento. Uno di questi è stata la costituzione di un gran numero di aree protette. Questo è l'incremento direi esponenziale di aree protette all'interno dei paesi europei, non della comunità europea e vedete che diciamo siamo in una situazione sicuramente in incredibile crescita rispetto all'immediato dopoguerra. Attualmente in Italia noi abbiamo 3 milioni di ettari interessati a livelli di protezione via via crescenti che sono l'11% del paese. Vi faccio notare che fino al 1990 noi avevamo 4 parchi nazionali, attualmente ne abbiamo 23 o 24, ogni tanto perdo il conto perché c'è un aumento direi continuo di questo tipo di istituti. Dopodiché ancora in modo ancora più diretto noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo reintrodotto là dove mancavano ungulati selvatici che sono diciamo le specie di faune selvatiche, di grandi mammiferi e lo specifico che hanno avuto il maggior livello di gestione in Europa. E questo è un qualcosa di generalizzato. Pensate per esempio che il cervo è stato reintrodotto in 27 dei 28 paesi europei, non vuol dire che era estinto in 27, vuol dire che ce n'erano vaste aree prive e in queste vaste aree sono stati reintrodotti i cervo. Se vogliamo vedere la cosa ancora una volta a livello italiano scopriamo che il cervo nella penisola italiana era praticamente una specie estinta, con la sola eccezione del piccolo nucleo che vi sto indicando col cursore al bosco della mesola, e che un'infinità di reintroduzioni fatte lungo tutto l'arco alpino dall'allora corpo forestale dello Stato, più una serie di, diciamo così, arrivi dal versante settentrionale delle Alpi, hanno costituito una situazione in cui, questa era, questa immagine è dell'inizio del 2000, in cui attualmente abbiamo una popolazione di cervi assolutamente abbondante che tra breve scuola i 100.000 carri. Questo è un quadro che ha condotto a cosa? Ha condotto a un incremento generalizzato di alcune specie, quelle che potremmo chiamare i vincitori di questa storia. La categoria che, diciamo, maggiormente rappresenta il ruolo di vincitori in questa evoluzione ambientale sono gli ungulati. Gli ungulati in tutta Europa, in ogni paese europeo, sono aumentati in modo considerevole dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi. Giusto un paio di casi, questa qui è l'Austria, stiamo parlando di prelievi, di caprioli, cinghiali e cervi, che come vedete sono tutti in incremento, quindi con un coefficiente angolare sicuramente positivo, è uno dei casi più eclatanti dell'Europa, l'esplosione numerica delle alci in Pennoscandia, dove il cambiamento di pratiche culturali e riferite alle foreste hanno creato ambienti marginali che per le alci erano ideali e questo tipo di situazione ha creato questo incremento assolutamente brusco intorno agli anni 60 e gli anni 70, scusatemi, gli anni 80, cui poi è, diciamo così, seguito un controllo molto efficace fatto a livello locale, proprio perché si è arrivati ad una, diciamo, densità di popolazione difficilmente gestibile. Ricordiamoci che un alce è un animale in cui i maschi possono arrivare a pesare 350-400 kg, le femmine parecchie o meno, ma comunque non è una specie a basso impatto. Ma il problema dei problemi è quello qui, il cinghiare. Il cinghiare è che non ha fatto altro che aumentare in tutti i paesi europei, proprio per le ragioni che vi dicevo, e per qualcos'altro, perché ha trovato il modo, essendo una specie estremamente plastica, anche di sfruttare le aree agricole e anche le aree agricoltura intensiva. Ci sono aree della Germania settentrionale in cui i cinghiali vivono nei Gran Purchese. Il nostro paese forse è stato uno dei migliori esempi di evoluzione positiva del popolamento di ungulati. All'inizio del XX secolo il nostro era un paese sostanzialmente privo di ungulati selvatici. Gran parte di quello che vedete, che riguarda l'arco alpino, era dovuto alla presenza del camosso alpino, mentre il cinghiale era ridotto a pochissime aree, come per esempio il litorale. Quello che vedete è la somma della distribuzione delle otto specie di ungulati italiani all'inizio e alla fine del XX secolo. E vedete insomma che avevamo un paese privo di ungulati selvatici, siamo ritrovati come un paese densamente popolato di ungulati selvatici, molto oltre le aspettative. Caprioli che sono aumentati del 350% dall'80 al 2010, Cervi che sono aumentati di oltre sette volte dall'80 al 2010, Cinghiali che dal 96, perché prima non c'erano neanche stime di popolazione, sono aumentati di quattro volte, quindi sostanzialmente in 14 anni hanno incrementato di quattro volte le loro presenze. Attualmente non oso pensare a cosa siano arrivati, ma purtroppo il nostro, questo tanto per dare un'idea anche del livello di non gestione, giustamente il Presidente della Federica Caccia lamentava l'assente di gestione. Il nostro è un paese in cui non sappiamo quanti ungulati abbiamo e non sappiamo neanche quanti ne abbattiamo. In tutta una serie di paesi europei basta andare su internet e con due tweet, come si dice, questi dati li avete, da noi sono fermi al 2010. Ma poi c'è qualcun altro, e cioè ci sono i grandi predatori, in particolare il grande predatore, il lupo, il più plastico dei grandi predatori europei, che in una situazione come quella che vi ho descritto, ha trovato amplissimo spazio. Perché? Perché le sue prede selvatiche naturali sono ricomparse in numeri adeguati a sostenere le popolazioni di lupi importanti. In Europa il lupo ha avuto un incremento generalizzato e paesi dove si era estinto, come per esempio la Francia o la Germania, hanno attualmente popolazioni crescenti e rapidamente in crescita. Questi qui sono dati del 2013, 250 lupi, in Francia attualmente si stima di averne probabilmente da tre a quattro volte di più. La Germania, qui voi vedete il numero di branchi stimati nel 2016, 2017 e in 60, attualmente i tedeschi hanno superato i 110 branchi e hanno dei continui incrementi. L'Italia ha avuto una situazione assolutamente paragonabile a quella degli ungulati selvatici. Il lupo era ridotto ad alcune aree collinarie e montane dell'Italia centro-meridionale. A causa della persecuzione diretta il lupo era cacciabile con ogni mezzo e in ogni tempo, fino al 1971 nel nostro paese, e a causa della mancanza di prede selvatiche. Attualmente il lupo, scusate che non riesco a... Voilà, si è bloccato, aspettate che lo sblocco. Il lupo ha riconquistato tutti gli appennini, questa è la situazione del 2013, quelli erano i due branchi più settentrionali delle Alpi nel 2013. Attualmente, o meglio, nel 2018 un progetto light stimava la presenza di 47 branchi, attualmente probabilmente ci sono 47 branchi soltanto tra Veneto, Trentina e Alto Adige, perché lì, come in tutte le altre aree d'Italia, il lupo ha avuto un incremento assolutamente tumultuoso. Questa, per esempio, è la carta distributiva del lupo in Toscana, dal 2005 al 2013, e voi vedete come sostanzialmente nel 2013 si è arrivati in una saldatura tra la popolazione postiera e la popolazione appenninica, e sostanzialmente già nel 2016, in pratica in Toscana, la presenza del lupo fosse sostanzialmente uniquitaria. Attualmente anche le aree del Basso Valdarno, che vedete prive di lupo, hanno i lupi. Nella tenuta di San Rossora, all'interno del parco di Migliarino, ci sono lupi, c'è stato un evento di riproduzione, siamo a 4 chilometri dalla Torre di Pisa. E in un lavoro fatto con il nostro gruppo di ricerca nel 2016, per la regione Toscana, avevamo individuato la presenza minima di 110 branchi di lupi. Quindi, oggettivamente, una situazione con una densità importante. E uno dei problemi grossi della, diciamo, gestione della presenza di questa specie è stato che, fino a tempi molto recenti, c'è stata una continua, in modo di vedere anche abbastanza strumentale, sottovalutazione delle presenze, in cui si volevano negare l'evidenza fino al punto in cui, andando in campagna a contare, a trovare i branchi, è risultato evidente che la situazione era molto diversa da quella dipinta come una specie pressoché scomparsa, che ormai è diventata una specie piuttosto comune. Abbiamo venuto in pianura padana, tanto per essere chiari. Ma questa storia ha anche dei perdenti. Questa storia ha dei perdenti perché le trasformazioni ambientali che vi ho descritto sono state vantaggiose per alcuni, ma svantaggiose per altri. Non solo per via delle trasformazioni ambientali, ma perché nelle aree dove comunque si continuava a fare agricoltura, si è continuato a fare agricoltura nel modo sbagliato, cioè non tenendo in nessuna considerazione o in scarsissima considerazione le necessità di quella che chiamiamo piccola selvaggina stanziale o chiamiamola come preferiamo, ma parliamo di lagomorfie galliformi. Lagomorfie galliformi che praticamente in tutta Europa, questi qua sono dati dell'Ungheria, hanno conosciuto un drammatico decremento, e un crollo che conseguenza da un lato della diminuzione dello spazio disponibile per queste specie, che sono specie legate ad ambienti culturali, e dall'altro a un uso continuo e devo dire non particolarmente limitato nel tempo, anche recentemente, di prodotti chimici di sintesi che risultano estremamente tossici per un'ampia quantità di animali, inclusi quelli di cui stiamo parlando. In delle revisioni a livello europeo della presenza sia di starne sia di lepri, il quadro è sempre lo stesso ed è sempre sostanzialmente desolante, cioè di una continua crollo di presenza. Qui parliamo di starne, qui parliamo di lepri. Notate tutti che l'andamento dei grafici è esattamente il contrario di quello che avete visto per gli ungulati, coefficiente angolare disperatamente negativo senza speranza. Tant'è che un po' di anni fa, facendo un ragionamento sugli andamenti dell'attività venatoria in Italia, avevo appunto sottolineato quello che trovate scritto qui, che cioè che gli ungulati aumentano, la stanzia diminuisce, dove il futuro della caccia in Italia è sempre più legato agli ungulati. Prendendo esempi da tre province, due alpine e una appenninica, e sto parlando della provincia di Trento, dove vedete che da un lato abbiamo una tendenza positiva nella presenza di cervi, dall'altro abbiamo un crollo di coturnici, la Val d'Aosta, e anche qui una tendenza positiva nel prelievo di caprioli e un crollo di ternici bianche, e provincia di Siena, stesso trend positivo per i caprioli, stesso trend negativo addirittura nelle catture di starne in zone di ripopolamento e cattura. Quindi sostanzialmente un quadro chiaro, c'è chi vince, c'è chi perde. Ma non perde soltanto la piccola selvaggina stanziale, perdono anche molte specie di piccoli passeriformi. Il caso della lodola, quelle frecce che vanno disperatamente verso il basso in tutta Europa, vi indicano popolazioni in decremento più o meno forte, anche specie su cui non si riflette probabilmente perché ogni tanto le vediamo, ma non ce ne preoccupiamo troppo, come per esempio le averle. In generale gli insettivori, gli insettivori nelle zone agricole continuano a diminuire e alcune specie stanno diventando rare e rarissime. Le rondini in Europa sono diminuite del 40% in dieci anni, che non è esattamente un buon segno. E tutto questo chiaramente ci consegna una situazione in cui abbiamo dei problemi con delle specie. Chiaramente in altre occasioni abbiamo analizzato insieme, voi li citerò semplicemente, gli ungulati hanno un impatto sull'attività agricole, hanno un impatto sulla rigenerazione dei boschi, hanno un impatto importante sugli incidenti stradali, dove ci sono ungulati ci sono incidenti stradali. È assolutamente assurdo immaginarsi che in un'Europa o in un'Italia come quella attuale non ci siano incidenti stradali. Così, per darvi un ordine di grandezza, in Europa c'è un milione di incidenti stradali con ungulati all'anno dal 2000 in avanti. E poi il discorso di ungulati urbani e confidenti. che ormai sono una presenza continua e costante nelle nostre città. E, è stato ricordato dal dottor Pustorino, il problema di tipo sanitario. La peste suina africana è un grossissimo problema, ed è un grossissimo problema economico in prospettiva, oltre che ecosistemico legato alle popolazioni animali, ed è un problema nel quale la distribuzione e così capillare del cinghiale gioca un ruolo importante. Il lupo, nel contempo, ha da un lato recuperato il suo ruolo di grande predatore di ungulati selvatici, e quindi, se volete, tra virgolette, dà una mano, dà una mano perché ha un impatto sugli ungulati selvatici, soprattutto perché sta raggiungendo dei numeri tali da consentirgli di averlo. Dall'altro, ovviamente, crea delle difficoltà con la sua presenza. Problemi nuovi, legati alla presenza di lupi ibridi con i cani, legati alla presenza di lupi urbani o periurbani. La foto che vedete a destra è stata fatta a Castelnuovo, Garfagnano, alle 11 di sera davanti al teatro di quella cittadina. La predazione su cani, che è una cosa comune dovunque ci sia il lupo, ma che evidentemente non rende felici i proprietari di questi cani. E la presenza di lupi che possono essere aggressivi o confidenti. In questo senso, io proietto sempre questa immagine, che è vera, non è un fotomontaggio, questa foto è stata presa con un telefonino, ma nel contempo faccio notare che i cani finora hanno ucciso molte più persone di quanto non abbiano ucciso i lupi in Italia nell'ultimo secolo e mezzo e il numero di questi ultimi è zero. Quindi bisogna trattare questi animali con attenzione e con diciamo così una particolare attenzione per gli individui che possono essere troppo confidenti. non bisogna drammatizzare la cosa immaginandoci stragi terribili perché non è la condizione ecologica e sociale attuale. E i vecchi problemi sono quelli che sono più volte ricordati, l'impatto del lupo sugli ingolati domestici. Perché è vero che il lupo è vissuto per secoli in Italia mangiando animali domestici, perché non c'erano animali selvatici. Tutto questo ha creato una cultura negativa nei suoi confronti ma ha creato anche dei forti anticorpi e delle capacità di difesa. In aree in cui il lupo ricompare queste capacità di difesa sono inferiori per cui se da un lato nelle gran parte del nostro paese dalle Alpi agli Appennini il lupo mangia per il 95% ingolati selvatici quindi è un bene è anche vero per onestà intellettuale che esistono delle aree soprattutto aree alpine dove in periodi particolari dell'anno il lupo preda in modo importante anche su ingolati domestici creando tutti i conflitti che ne sappiamo. E questo è quello che volevo dirvi e mi auguro di essere stato chiaro sufficientemente nei tempi e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marco Pollonio la tua relazione è stata non chiara ma chiarissima per i tempi lasciamo un'altra domanda grazie 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 per la puntualità dei tuoi dati spero che potrai ancora darci supporto soprattutto se ci sarà un po' di dibattito grazie troppo devo andare a lezione però mi ricollego quando torno va bene grazie grazie ancora grazie ero certo che il collega Pollonio avrebbe dato questi avrebbe avuto questo successo e ci avrebbe arricchito con la sua notevole esperienza ho il piacere di dare la parola a Ferdinando Albisini che ci parlerà della riforma della PAC agricoltura ambiente ciclo della vita e nuovi confini dell'agricoltura lo ascolteremo sicuramente con tanto piacere grazie presidente grazie all'accademia e come dire a queste iniziative belle anche un po' trasversali di contaminazioni e di temi e una prima considerazione io ho ascoltato sono un giurista quindi poco o nulla capisco di queste cose ma per misteriose ragioni familiari mi sono ritrovato a gestire da una trentina d'anni un'azienda in Basilicata per passione non per professione e insomma la presenza degli animali selvatici nella nostra azienda è pazzesca e c'è un'immagine non ho la fotografia ma ce l'ho davanti agli occhi mi chiama la persona che segue le cose e dice di solito mi chiama fine giugno inizio luglio quando siamo prossimi alla mia titrebbia del grano del farro sono arrivati i cinghiali e mi manda sul telefonino queste foto di questi cinghiali che hanno creato dei grandi solchi nel terreno coltivato beh insomma questa mi pare la chiave di cui noi dobbiamo parlare il tema che mi era stato assegnato era come dire più sinteticamente riforma della pacca e caccia e io poi ho proposto di ampliarlo con agricoltura ambiente ciclo della vita e nuovi confini della gravità nel senso che è un tema che trovo decisivo voi sapete che è in corso ormai molto prossima alla conclusione questa tornata di riforma del prossimo periodo della pacca leggevamo tutti sui giornali che insomma il Parlamento avrebbe ormai approvato definitivamente aspettiamo la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale ma è stato un lunghissimo percorso quello a cui abbiamo assistito di riforma della pacca è un tema che ritorna periodicamente ogni 4-5 anni ma questa volta il tema ci ha accompagnato così a lungo per due ragioni dichiarate e per un'altra ragione che invece è quella che credo interessa molto le riflessioni che stiamo facendo oggi le ragioni dichiarate sono state che si è sovrapposta con le elezioni per il rinnovo del Parlamento quindi il nuovo Parlamento ha voluto in qualche modo come dire dire la sua intervenire su quello che era stato già predisposto e l'altro aspetto c'è stato l'esplodere della pandemia la pandemia è stata un'emergenza che ha fra l'altro toccato anche i profili legati all'approvvigionamento alimentare sotto molti punti di vista e ci sono stati una serie anche di interventi regolatori europei come chiunque si occupa di queste cose sa bene e adesso siamo vicini alla conclusione ma poi c'è un terzo tema che secondo me ha determinato questo lungo rimpallo sapete infatti che è stato adottato anche un regolamento per avere un regime provvisorio per il prossimo anno e perché c'è stato? Perché qui noi abbiamo io ripeto ascoltavo prima con estremo interesse queste varie posizioni qui noi abbiamo un problema vero di bilanciamento di interessi e di valori e non abbiamo a tutt'oggi e su questo vi anticipo la conclusione di questo mio intervento la riforma della PAC non risolve il problema del bilanciamento di interessi tra l'altro poi fa anche delle affermazioni che dal punto di vista giuridico non sono fondate perché si continuano a richiamare le finalità della PAC dell'articolo 39 del trattato istitutivo e così via ma in quelle finalità e ci sono alcune finalità che tutti conosciamo sicurezza degli approvvigionamenti reddito adeguato per gli agricoltori per le popolazioni agricole prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ma qui invece poi emerge e si dice conformemente ai trattati insomma capiamoci allora il primo punto di partenza quello che mi ha stupito devo dire ringrazio il presidente che ha organizzato perché mi ha costretto a io sono uso il computer ma poi sono un po' all'antica devo vedere le carte perché sulle carte se ce l'ho davanti capisco meglio le cose insomma sono andato a riprendere e ho visto che in realtà il discorso della riforma della PAC che tutti collocano nei primi nei primi proposti del 2018 risale al 2017 in un documento che la commissione intitola il futuro dell'alimentazione dell'agricoltura comunicazione sulla politica agricola comune posto 2020 allora questa è se volete per noi studiosi di diritto agrario una banalità parlare di agricoltura vuol dire parlare di alimentazione ma forse non è una banalità prima sentivo con interesse chi comparava come dire la popolazione urbana e la popolazione rurale il rapporto con l'ambiente della popolazione urbana di quella rurale è diversissimo insomma e la popolazione urbana i prodotti alimentari ce l'ha e ce l'ha a poco prezzo ce l'ha a poco prezzo perché perché come dice questo documento che mi ha veramente colpito vi leggo due righe la politica agricola comune è stata una delle prime politiche dell'Unione Europea ha conseguito brillantemente i suoi obiettivi di garantire approvvigionamenti di buona qualità e prodotti sicuri e affidabili sostenendo al contempo gli agricoltori europei la politica agricola europea ha consentito all'Unione Europea di diventare la superpotenza agroalimentare che oggi l'Unione Europea è il primo esportatore agroalimentare a livello mondiale su queste premesse credo che qualunque amministratore delegato di una società direbbe e quindi il nostro piano industriale per l'anno prossimo no le premesse sono come dire il cavallo che vince lo cambiamo e lo cambiamo profondamente con proposte di riforma sulla PAC in cui però si dicono alcune cose e soprattutto si parla e questa è la cosa su cui vorrei come dire che vorrei sottoporre la vostra attenzione e anche l'attenzione sentivo le organizzazioni agricole sentivo anche espressioni motivatamente critiche ma anche a chi ha responsabilità istituzionali e qui si fa una scelta forte che è quella dei piani strategici si fa una scelta e lo stesso titolo del nuovo regolamento con cui gli agricoltori tutti quelli che ci occupiamo dell'agricoltore dovranno fare i conti è una scelta di un regolamento sui piani strategici quindi la scelta che è stata fatta è una scelta molto diversa dalle scelte automatiche una seconda cosa vorrei sottolineare e poi come al solito forse sono le maniacalità di specialità ognuno poi pensa che il proprio orto sia quello più importante ma sono stati unificati ormai in questo testo che uscirà a breve due testi di interventi che hanno sempre seguito due binari molto diversi cioè quelli che erano gli aiuti cosiddetti diretti accoppiati non accoppiati ma comunque diretti quindi in qualche misura automatici e gli aiuti invece dei piani di sviluppo rurale che facevano parte di politiche da sviluppare vengono unificati e il modello di unificazione è quello dei piani di sviluppo rurale tant'è che si parla di piani strategici però poi noi che cosa leggiamo in questo stesso documento del 2017 mi si dice la PAC deve evitare la transizione verso l'agricoltura più sostenibile rendere più semplice il lavoro quotidiano degli agricoltori ridurre la burocrazia questo non è cioè questa PAC poi voglio dire può esserci anche una straordinaria e ottima burocrazia non è che voglio dire che le cose non necessariamente che le cose necessariamente non funzionano però bisogna avere il coraggio perché ci sono e di nuovo prima negli interventi che mi hanno preceduto ho sentito che alcuni insistevano proprio sulla portata evocativa di alcune parole che in qualche modo colpiscono la fantasia bisogna dire riduciamo la burocrazia però non è vero non si sta riducendo la burocrazia si pensa invece di avere una amministrativizzazione molto forte della politica agricola e lo si dichiara espressamente e questo poi calato nel nostro paese con la nostra Costituzione con l'articolo 117 in cui come sapete tutti in questa stanza la materia agricoltura non esiste più con questa scissione fra tutela dell'ambiente e valorizzazione dell'ambiente con la Corte Costituzionale io mi sono portato un po' di sentenze insomma mediamente da gennaio ad oggi la Corte Costituzionale un paio di volte al mese si deve pronunciare su conflitti Stato, Centrale e Regioni in materia ambientale e di questo una buona metà riguardano anche le scelte sulla caccia che le regioni fra l'altro continuano a fare a motivare in funzione di scelte pro agricoltura quindi insomma il punto rimane è la riforma del 2018 poi il testo che è stato presentato che è stato presentato prima del famoso Green Deal insomma anche questo Green Deal e io continuo a sentirne parlare e allora di nuovo consumando alcuni ettari di foresta insomma ma tanto ce ne sono in crescita l'ho stampato su carta ma questo Green Deal se voi ve lo leggete nelle sue quante sono 20 pagine 26 pagine sulla politica agricola comune non opera alcuna scelta e dichiarazione concreta e non opera soprattutto quella di lanciamento di interessi quella scelta tra interessi e valori cheppure è stata una delle tradizioni fondanti della politica agricola ma in generale delle politiche europee quello che c'è è chiaro insomma sappiamo tutti che la comunità economica europea è nata come comunità economica ma di fatto molto presto ancora prima del trattato di Maastricht dell'atto unico europeo che hanno inserito all'interno dei trattati dei valori fondanti quali la tutela della salute la tutela della persona la tutela dei lavoratori utilizzando il grimaldello di dire se non ho una tutela della persona uniforme nell'intero territorio europeo creo delle disparità di concorrenze e quindi creo delle lezioni con quel grimaldello quei valori ci sono sempre stati e si sono fatte delle scelte in cui si è detto nel bilanciamento fra quei valori e altri gli interessi economici che pure sono stati il nucleo fondante la chiave che ha fatto nascere la comunità economica europea devono prevalere i valori di tipo ideale cito per tutti un solo articolo notissimo l'articolo 14 del regomento 178 del 2002 quello sulla sicurezza alimentare il quale dice ma veramente con una frase scritta dagli antichi romani nel marmo i prodotti alimentari a rischio non possono essere messi sul mercato punto cioè lì non c'è da fare mediazione il valore fondamentale fondante della salute umana vince su qualunque aspetto economico voi ricorderete le battute di quelli che dicevano ma quando c'è stato l'abbattimento di centinaia se non di milioni di capi di animali bovini in Europa solo potenzialmente forse affetti da BSE perché non li mandiamo nei paesi indiesi la risposta no non è pensabile non possiamo aiutare anche gente che ha molta fame che morirà di fame ma mandandogli anche degli animali che abbiano un caso su un milione allora in quel caso però il bilanciamento fra interessi e valori è stato fatto ed è stato fatto con grande chiarezza attribuendo come dire dei numeri su questo coso qui invece se voi vi andate a rileggere questo documento sì sto parlando sempre del Green Deal la commissione garantirà che tali pratiche strategici che dovrebbero portare all'uso di pratiche sostenibili quali l'agricoltura di precisione l'agricoltura biologica l'agroecologia l'agro silvicoltura nonché a norme più rigorose in materia di benessere degli animali siano valutati sulla base dei solidi criteri climatici ambientali bene e allora di che stiamo parlando e fra le altre cose parlando poi dei nostri temi il tema del benessere animale è esploso negli ultimi anni come sapete c'è un articolo l'articolo 13 la nostra Costituzione ancora non parla ci sono proposte modifiche non parla del benessere animale la nostra legislazione anche penale è una legislazione che in realtà anche quella più recente punisce i crimini che offendono il sentimento per gli animali cioè nel nostro legislatore diverso dall'atteggiamento della nostra giurisprudenza intanto l'animale deve essere rispettato in quanto questo offende il sentimento umano l'essere senziente e l'umano il trattato di Lisbona ha modificato questo ha introdotto un articolo 13 sugli animali come esseri senzienti ma poi non ha risolto la questione del bilanciamento di interessi perché dice l'articolo 13 vada a memoria ma la sostanza è questa nell'operare le scelte di mercato di concorrenza di circolazione di merce e di politica agricola si tiene conto della tutela del benessere animale come esseri senzienti che vuol dire si tiene conto perché se si tiene conto fino in fondo allora dobbiamo diventare da stasera vegetariani perché il punto non è quello della macellazione rituale non rituale con stordimento il punto è quello se noi abbiamo titolo nel disegra su questo confesso ci vorrebbero ben altre competenze inviterete dei colleghi però questo per dirvi che insomma se cominciate a scorrere con pazienza il testo del 2017 la comunicazione del Green Deal le varie proposte poi una serie di documenti che si sono accavallati nel 2020 e anche questo è stato straordinario perché il 2020 con l'epidemia e la pandemia ha riproposto al centro della riflessione anche europea anche politica anche la commissione in vari documenti il tema della sicurezza come security non safety security nel senso che per esempio non avevamo abbastanza ecco adesso abbiamo tutti le mascherine stasera si trovano in ogni angolo di strada si trovano anche fatte in Italia ma noi abbiamo avuto mesi in cui le mascherine non c'erano in cui non c'erano i respiratori perché si era ritenuto e deciso che fosse più economico comprarle sul mercato mondiale globalizzato però ecco perché mi ha colpito questa frase che vi ho detto prima la stessa cosa possiamo pensare di fare per i prodotti agricoli e alimentari questo hanno pensato di fare alcuni organismi all'inizio del secolo nel momento in cui c'era il massimo di approccio per la globalizzazione del commercio quindi io trovavo i prodotti alimentari a più basso prezzo così come trovo le magliette o le scarpe da ginnastica altrove oggi però la commissione europea mi dice l'Europa ha conseguito un osservatorio successo e siamo esportatori netto allora se vogliamo conservarcelo come facciamo e a questo punto la strategia le varie strategie questi tre documenti del 2020 che sono uno quello dal produttore al consumatore un altro è quello sul consumo alimentare sostenibile l'altro ancora è quello dei rapporti sono tutti documenti che parlano di un periodo di transizione al cui centro c'è la sempre maggiore attenzione alle questioni ambientali sanitarie sociali ed etiche vi leggo di nuovo impellente necessità di ridurre la dipendenza da pesticidi antimicrobici ridurre il consumo eccessivo di fertilizzanti e invertire la perdita di biodiversità ecco ci sono soltanto ogni tanto due tre parolette magiche ecco perché è difficile dire la PAC cioè se noi andiamo a cercare dentro i testi normativi cioè agiamo come dire a un livello molto basso molto modesto cioè da da interpretare il diritto che si deve fermare alle parole beh lì poi poco si dice o nulla di caccia si parla di biodiversità che va sostenuta però poi insieme si dice che occorre formulare una proposta legislativa per un quadro di sistema alimentare sostenibile di nuovo io qui ci sono tutti i scienziati e quindi mi sento molto umile molto ignorante rispetto a loro ma su questo aspetto della sostenibilità i problemi e poi dopo se vedete i documenti pagine e pagine sono per esempio su ridurre le perdite degli sprechi alimentari combattere le frodi alimentari promuovere la transizione globale tutte cose che vanno benissimo ma che si pongono su un altro aspetto allora dopo tutta questa serie di documenti la faccio perché come dire ho visto che c'è una una gestione diretta non dico di modello cinese ma insomma comunque di un modello che ci tiene al rispetto dei tempi e non voglio rubarvi tempo ma ci sono alcune altre cose che volevo raccontarvi e volevo prendere appunto il testo questo ultimo ne ho stampato di questo fuoche pagine perché sono 480 pagine il documento della semplificazione europea questo regolamento che dovrebbe uscire a giorni che parte da alcuni dati comincia vi leggo il primo considerando tali obiettivi tra l'altro la necessità per la PAC di essere più orientata ai risultati al mercato è orientata al mercato come strumento di autoregolazione o è una PAC diretta perché ci sono i piani strategici poi però si riconosce la natura particolare dell'attività agricola e poi alla fine il settantaquattresimo considerando tira fuori la parola magica e qui ve lo leggo ve lo devo proprio leggere data l'importanza di arginare la notevole perdita di biodiversità il sostegno previsto al presente regolamento dovrebbe contribuire a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche dell'Unione e a conseguire l'ambizioso traguardo generale e destinare il 7,5% della spesa generale di QFP che sarebbe il quadro finanziario pluriannale agli obiettivi relativi alla biodiversità nel 2024 e il 10% nel 26 e 27 ecco qui ci avete un punto di riferimento preciso cioè chi dovrà gestire queste risorse a livello nazionale adesso arriviamo al piano strategico e ai piani regionali deve sapere che una parte importantissima 7,5% o 10% ha il traguardo di obiettivi relativi alla biodiversità allora poi che cosa vuol dire questi obiettivi relativi alla biodiversità prima abbiamo visto bellissime fotografie di campi recintati oppure altro tipo di immagini come si opera e questo è da vedere e poi c'è l'ultima l'ultimo considerando questo è decisivo che parla al fine di rafforzare il ruolo dell'agricoltura nella fornitura di beni pubblici questi famosi public goods prima qualcuno parlava degli economisti che hanno come dire una grande passione per i beni pubblici spero che non ci siano troppi economisti per i beni pubblici ma quali sono questi beni pubblici sono anzitutto la sicurezza degli approvvigionamenti il reddito adeguato agli agricoltori prezzi ragionevoli nelle consenze consumatori o ci sono anche altre cose e questo è un altro dei punti sui quali detto questo tralascio tutto quello che riguarda altri aspetti molto interessanti legati alle superfici ammissibili e così via e poi arrivo dov'è che dobbiamo arrivare per andare a capire in che modo tutto questo impatta eventualmente sulla caccia dobbiamo arrivare alla parte finale agli allegati negli allegati ci sono degli indicatori e chi come dire lavora ed è impegnato in prima persona nella gestione di questo immagino che già stia come dire sudando le sue fatiche per costruire questi documenti rispetto a questi indicatori perché poi ci sono gli obiettivi generali allora fra gli obiettivi generali vi leggo questa sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente compresa la biodiversità e l'azione per il clima e contribuire a raggiungimento degli obiettivi dell'unione in materia di ambiente e clima compresi gli impregni assunti a norma dell'accordo di Parigi che è stato aggiunto dal Parlamento quindi voglio dire e tutto questo però parte da un punto vi faccio notare una cosa anche questa è una piccola maniacalità lessicale dei giuristi la proposta della commissione era sulla base degli obiettivi della PAC e di quell'articolo 39 ma nell'articolo 39 l'ambiente e la biodiversità non ci stanno il Parlamento ha saggiamente scritto conformemente agli obiettivi della PAC nel senso che dice va coerente con quella però dico tutto questo ma non con come dire con spirito di malizia cioè sono del tutto consapevole e adesso poi vi do qualche ultimo elemento insomma e mi avvio poi a concludere che non è pensabile oggi proporre di svolgere attività agricola che non sia un'attività agricola che sia coerente con la gestione dell'ambiente e vi dico di più con la gestione dell'intero ciclo della vita abbiamo avuto qualche mese fa forse qualcuno l'ha ascoltato un incontro con difficoltà di collegamento da remoto al ministero politico agricole perché erano vent'anni dei famosi decreti di orientamento del 2001 i decreti di orientamento del 2001 che hanno modificato la definizione imprenditore agricolo sono stati una grande modernizzazione ma oggi c'è un passaggio ulteriore l'agricoltore non è soltanto quello che fa una delle fasi della cura del ciclo biologico destinato in prospettiva alla produzione di alimenti e quindi finalizzato a come dicono i francesi all'ingestione all'estomacca e l'agricoltore oggi è un soggetto che interviene nel ciclo dell'ambiente complessivamente inteso oggi non ho sentito ancora parlare di insetti ma certamente tutto il tema della tutela degli insetti perché anche quelli sono fanno asservati allora tutto questo fa sì che c'è una griglia molto articolata di obiettivi specifici e di indicatori nell'impatto e se poi andate e avete la pazienza e siete arrivati a pagina 350 a pagina 350 troverete che fra gli indicatori di impatto che devono essere espressamente previsti nel piano strategico nazionale e nei piani strategici regionali c'è l'indicatore impatto 1-19 incrementare la vifauna nelle zone agricole indice della vifauna presente nelle zone agricole e in parallelo a questo però c'è sviluppo dell'agricoltura biologica e lì di nuovo mi trovo in imbarazzo perché per un cittadino i due termini incrementare la vifauna e sviluppo dell'agricoltura biologica sono entrambi collegati in un grande come dire disegno di tutela dell'ambiente ma per l'agricoltore che fa coltivazione bio e che però poi si vede le sue culture in base alla vifauna non sono così però questo per spiegarvi anche la difficoltà che avranno come dire i nostri legislatori detto questo e poi di nuovo c'è un indice C36 indice della vifauna presente nelle zone agricole quindi voglio dire le istituzioni pubbliche regionali e statale le organizzazioni degli agricoltori le imprese agricole si troveranno a fare i conti anche con un indice della vifauna ho ascoltato con estremo interesse la relazione del collega prima che ci dava queste come dire indicazioni di scienza vera di scienza obiettiva non delle chiacchiere del giurista e però questo è qualcosa che tornerà ancora adesso e allora se noi proviamo a come dire riportare tutto questo a noi oggi due considerazioni vorrei poi chiudere con alcune considerazioni sulla sulle nostre situazioni italiane dopo il 117 ma prima volevo richiamare una cosa c'è un atto europeo importantissimo il nuovo regolamento sui controlli ufficiali del 2017 che il 625 è entrato in applicazione a fine 2019 questo regolamento ha sconvolto il quadro delle categorie perché il precedente regolamento sui controlli era il controllo sui prodotti alimentari e la preoccupazione era che questi prodotti alimentari potessero regare danno alla salute umana punto quindi ad esempio erano soggetti a controllo i mangimi in quanto destinati a animali destinati a entrare nella catena alimentare umana il regolamento questo che vi ho detto che il primo regolamento recente che cita nelle premesse tra l'altro l'articolo 13 del trattato quindi gli animali come esseri senzienti dice che la definizione di pericolo comprende il benessere e la salute degli animali anche non destinate alla catena alimentare e il benessere delle piante anche del legname con un passo in avanti che dal punto di vista se volete anche scientifico sistematico straordinario perché noi in Italia abbiamo sempre avuto l'idea di un'agricoltura che era un agger colere e che quindi comprendeva la silvicoltura la cura del bosco il diritto comunitario è nato dopo la guerra è nato col bisogno di dare da mangiare per cui i prodotti agricoli il legno non c'era e sono stati casi infiniti oggi invece si dice l'operatore deve guardare a tutti i potenziali pericoli che derivano dalla sua attività non solo al destinatario finale l'umano che mangerà gli spaghetti o la bistecca ma anche a tutti quelli che popolano quella zona allora due cose ne ho parlato con alcuni colleghi tecnologi a Viterbo insomma sono rimasti tutti molto preoccupati questo tra l'altro suppone una formazione dell'operatore agricolo da parte dell'università molto più ampia e da più spettro perché si deve preoccupare ad esempio come dire dei danni che certe pratiche che vanno benissimo per produrre alimenti sani che non danno fastidio all'uomo possano produrre su anche dei piccoli insetti o altro questo è un un approccio integrato questo già c'è prescinde dalla PAC questa è una norma in applicazione da novembre 2019 questa è una cosa e d'altro canto questa è la norma che riporta se volete l'agricoltore con la responsabilità al centro del ciclo della vita le relazioni di prima parlavano della cultura rurale degli agricoltori che di fatto poi gestivano il bosco gestivano anche la popolazione degli animali selvatici perché la gestivano non la sterminavano perché erano in qualche modo integrati ecco questo nuovo regolamento chiama a tutto questo e questo è un altro aspetto che dovrà essere tenuto presente nelle scelte che si faranno in sede nazionale regionale detto questo come si fanno queste scelte a chi spetta farle qual è la ripartizione fra competenze statali e competenze regionali con l'attuale 117 insomma io mi sono divertito ad andare a cercare un po' di sentenze tutti voi che vi occupate di queste cose le conoscete certamente molto meglio di me ma insomma negli ultimi mesi la corte costituzionale non so questo è l'ultimo fascicolo sentenza 3 giugno sentenza 31 maggio sentenza 17 febbraio tre casi di ricorso dello Stato contro legge regionale Sardegna per i piani d'abbattimento legge quest'altra che è regione Molise per quanto riguarda la possibilità di estendere il prelievo venatorio oltre certi periodi e quest'altra ancora legge regione Toscana qui c'è l'amico collega Lucifero che ben la conosce anche per sue come dire competenze dirette e in tutti questi casi non si è discusso del merito della comparazione di interessi si è discusso se aspettava allo Stato alle regioni adottare queste misure e la Corte Costituzionale ha sistematicamente seguito l'orientamento di dire spetta allo Stato e non alle regioni perché mentre la valorizzazione dell'ambiente è materia regionale la tutela dell'ambiente è materia statale e quindi eventualmente intervenire nel modificare i periodi di caccia nel consentire ad altri adesso non entro nel dettaglio ma ad altri soggetti autorizzati di avere piani di caccia per gli ungolati e così a questo appartiene allo Stato e d'altro canto è ancora un'altra questa mi pare che sia di luglio del 2021 anche questo che riguarda sempre la regione toscana e ce n'è un'altra ancora che non riguarda vi risparmio questa del 2020 ce n'è un'altra che mi ha molto colpito che è quella che riguarda non la questione della caccia ma la questione della gestione dei rifiuti è stata contestata una legge della regione Lazio in questo caso la quale aveva previsto di delegare alcuni compiti per la gestione dei rifiuti ai comuni ai grandi comuni rifiuti pericolosi ricorso dicendo no perché la normativa nazionale ha affidato alle regioni il compito di gestire i rifiuti quindi tu non puoi subdelegare insomma se io vado a raccontare queste cose a chi non è giurista sicuramente comincio a dire vabbè ma insomma siete i soliti avvocati a Ruffoni perché se l'hai affidato poi organizza lui come meglio crede e invece no perché si è detto da parte della corte costituzionale non può la regione a sua volta delegare queste materie era solo lo Stato che potrebbe delegare vi rendete conto della difficoltà nell'andare a gestire questo bilanciamento interessi ultima sentenza che volevo richiamarvi ne parlavo di nuovo anche di questa prima con l'amico e collega Lucifero è una sentenza recentissima di pochi giorni fa in materia di tane dei criceti e io devo fra l'altro dichiarare che per mia esperienza familiare e quant'altro non sono mai andato a caccia non ho esperienza però questa sentenza sui criceti veramente mi ha colpito è una sentenza di pochissimi giorni fa 28 ottobre 2021 corte di giustizia la questione è questa viene approvato un piano di lottizzazione nella fascia esterna di un paesino in Austria il punto è che la normativa urbanistica e di nuovo siamo qui sempre al problema di bilanciamento interessi austriaca dieta di costruire in zone dove ci sono tane di animali selvatici questi signori ottengono il permesso un'associazione ambientale propone ricorso e loro si difendono scusate abbiamo verificato queste tane sono totalmente abbandonate quindi non esistono tane di animali selvatici il quesito che i giudici austriaci pongono alla corte di giustizia ma tane di animali selvatici vuol dire tane in cui gli animali selvatici stanno figliando e si stanno riproducendo o anche tane che ci sono state nel passato e che in un futuro non definito non sei mesi un anno potrebbe e la corte di giustizia dice l'articolo 12 della direttiva 92-43 deve essere interpretato nel senso che i siti di riproduzione di una specie animale protetta devono essere tutelati per tutto il tempo necessario a consentire a tale specie animale di riprodursi con successo cosicché questa tutela si estende anche ai siti di riproduzione che non sono più occupati laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie animale vi faccia ritorno punto non vi faccia ritorno entro un anno due anni tre anni non voglio come dire ripeto al di là del fatto che sono questioni che affascino e così via ma non voglio sollevare provocazioni voglio soltanto dire che nell'ultima pagina del testo del regolamento questo gigante che ho stampato solo in parte di riforma della PAC quando si dice atti legislativi dell'Unione in materia di ambiente e clima i cui obiettivi dovrebbero contribuire a restare coerenti i piani strategici si cita fra l'altro la direttiva del 2009 sugli uccelli selvatici e la direttiva 92-43 sulla tutela degli abitati naturali esattamente questa che è stata interpretata in questo modo e concludo dicendo la domanda è forte e soprattutto c'è un tema molto delicato di individuazione dei soggetti di governo nel nostro paese di queste scelte che devono farsi queste scelte e che abbiamo visto negli ultimi anni fra Stato e Regione non hanno ancora trovato sì ho letto anch'io qualcuno lo citava prima questo documento recentissimo delle Regioni e beh le Regioni stanno mettendo sul piatto ho finito non rubo altro tempo questo tema io penso che probabilmente l'Accademia ci potrà ridare un appuntamento la primavera dell'anno prossimo quando il regolamento sarà stato pubblicato ma soprattutto quando avremo i primi piani strategici e li potremo fare una valutazione concreta ringrazio per l'attenzione grazie grazie al professor Di Sinni che ci ha aperto gli occhi però ci ha anche posto tantissimi interrogativi e speriamo che in sede di strutturazione di questi piani strategici ci siano persone illuminate perché da quanto ho potuto capire la situazione non è per niente non è per niente facile grazie ancora e do la parola al collega amico Nicola Lucifero che ci parla di gestione sostenibile della fauna serbatica tra questioni risolte e nuove prospettive interpretative prego lo stesso tutti sapete chi non lo sapesse qui in Accademia c'è un tavolo permanente sulla questione della fauna selbatica ormai da diversi anni e come diceva anche Marco Apollonio nel suo intervento insomma questo questo tavolo permanente ha lavorato tanto ma fino ad ora è rimasto per lo più inascoltato prego Nicola grazie grazie presidente mi unisco anch'io ai ringraziamenti nei confronti degli organizzatori e in tono e merito della mia relazione che si intitola la gestione sostenibile della fauna selbatica tra questioni irrisolte e nuove prospettive interpretative devo dire che il tema o meglio il titolo della relazione richiede come dire due considerazioni preliminari che grazie forse nel momento in cui se noi come dire il tema della gestione sostenibile potrebbe apparentemente sembrare non corretto da un punto di vista normativo posto che ad oggi di gestione della fauna selvatica non possiamo parlare sulla base dell'impianto della legge 157 92 e la sostenibilità invoca come dire la disciplina o il quadro di riferimento anche evocato dal Green Deal e quindi porta a una prospettiva più avanzata però l'ho voluto individuare e indicare anche virgolettato proprio perché in un certo senso esprime la prospettiva più avanzata che anche questa giornata vuole evidenziare e quindi prevedere un'ipotesi quasi deiure condendo di una prospettiva di una gestione che veramente sia sostenibile della fauna selvatica e quindi muovendo anche da tutte quelle considerazioni che sono state fatte e anche dai lavori che il presidente evocava poc'anzi dell'osservatorio presso l'Accademia di Gergofi di andare a entrare nel merito di quelle che sono delle questioni irrisolte ecco motivo per il quale insomma il mio intervento ha un perimetro di riferimento che gli organizzatori hanno individuato che si incentra sul tema dei danni da fauna selvatica in agricoltura si capisce e però come dire può essere la prospettiva di veduta di una criticità del contesto che apre a tante altre considerazioni l'ho voluto fare muovendo però da e questo devo dire insomma la relazione del professor Abbesini mi ha aperto e confermato questa prospettiva di una visione ampia non circoscritta non limitata ad alcune considerazioni ma una prospettiva quanto più ampia che prenda in considerazione tutte le prospettive le tematiche collegate ovviamente alla questione agricoltura alla tutela dell'ambiente ma anche alla caccia che è una componente rilevante partiamo da una considerazione qual è la questione risolta la questione risolta è il tema dei danni da fauna selvatica in agricoltura lo lo dico sulla base di una considerazione che è certamente molto ben nota quindi sarò estremamente rapido nella sua ricostruzione più ampia perché tanto sono considerazioni scusate giochi di parole che sono ben note a tutti ma è una questione certamente molto dibattuta sul piano scientifico magari non troppo nota fuori dalle aule e da questa aula in particolare che più volte l'ha trattato ma si presenta come una questione che ha una grossa criticità sul piano normativo sia a livello statale che a livello regionale cioè come dire è una questione che si presenta in concreto ma che oggi non ha una risposta sul piano normativo nasce però ed esprime una complessità generale che si esprime da una pluralità di considerazioni in parte già evidenziate poc'anzi dalle relazioni che mi hanno preceduto la differenza di tipologie di danni che si attraverso cui questi danni si manifestano e danni diretti o indiretti all'attività agricola non entro in una lunga ipotesi che sono state che sono e che caratterizzano tutto l'intero territorio nazionale ma anche dallo stesso tempo da una eterogeneità di quelle che sono le specie che causano questi danni con una serie di conseguenze sul piano questa volta sì sempre più normativo che sono anche il regime di tutela differenziate che come dire caratterizzano queste specie quindi non è una come dire una questione che può essere affrontata o che difficilmente può essere affrontata se non una visione generale questo lo dico perché se uno esaminando nella preparazione della relazione l'ho fatto tanti dei disegni di legge di riforma della legge 157 92 che negli ultimi diciamo negli ultimi anni si sono susseguiti e che oggi sono presenti direi anche abbastanza affossati negli itali di formazione normativa parlamentare si vede proprio questo approccio cioè si tende ad avere una visione estremamente segmentata entrando nel merito di una specie rispetto all'altra perché è difficile avere una visione generalizzata questo perché perché l'impianto normativo è certamente già in seno all'articolo 157 si tende ad avere una differenziazione delle specie in più a questo subentra la normativa di fronte europea per non parlare delle convenzioni internazionali quando queste entrano sulle tutele collegate a taluna specie se questo è il quadro sintetizzato al massimo ma perché so che sono cose ben note l'evento pregiudizievole si presenta molto molto complesso anche esso cioè il quadro normativo che la legge 157 come dire definisce che la legge di riferimento si basa come ben noto sulla qualifica giuridica che viene serdata la fauna selvatica questo come patrimonio indisponibile dello Stato che quindi viene e chiama se lo Stato la sua come dire custodia la sua la sua e anche gestione e la sua tutela soprattutto ma come dire la identifica attraverso tutta una serie di iniziative di azioni che sono finalizzate a quello che si chiama l'equilibrio la cosiddetta densità ottimale che deve essere che deve essere presente sul territorio da perseguire necessariamente attraverso quelle che sono una attività di pianificazione a livello territoriale questo è vuol dire il disegno generale che si attua attraverso tutta una serie di deleghe che vengono a essere effettuate a livello regionale tutto questo porta a una considerazione che il sistema di gestione del rischio in questo caso viene effettuato viene portato avanti attraverso una serie di attività di stampo e di matrice preventiva cioè si sposta in avanti la questione evidenziando tutta una serie di attività che sono in capo alla pubblica amministrazione e che necessariamente dovrebbero prevenire l'evento e che nell'impianto normativo mettono in una fattispecie residuale quello del ristoro perché è una fattispecie certamente possibile direi anche fisiologica perché come dire è evidente che il danno dalla fauna selvaggine di cottura sia un evento che si può provocare ma viene prevista come una fattispecie eventuale tutto questo però in un sistema che è fortemente ancorato a un momento storico particolare che non è più quello attuale come peraltro c'è stato detto da prima dalla relazione del professor Apolloni in questo disegno come dire la posizione della caccia è un elemento che la legge 157 prende in considerazione la pone in una logica convergente di interessi verso quella che è la tutela ambientale e la regola in funzione di essa vediamo però alcune considerazioni l'evento la questione credo e può essere definita come una questione irrisolta perché ancora oggi non presenta una soluzione e non è non si basa su una soluzione che è stata effettuata su base normativa cioè il quadro normativo è stabile è sempre questo gli unici interventi correttivi si sono verificati si sono avuti sulla base di alcuni interventi che si sono stati resi necessari per l'adeguamento della normativa europea ma sostanzialmente non si è o non si ha nessun tipo di intervento quindi il quadro normativo è questo allo stesso tempo il sistema con cui viene essere portato avanti quell'approccio prevenzione e ristoro segue sempre una sostanziale delega a livello regionale che deve essere portato avanti e qui voglio evidenziare sulla base di una ricostruzione come dire della giurisprudenza quello che è un po' la posizione sul piano della cosetta governance ma anche sulla base di quello che è la tutela dei diritti in capo al soggetto agricoltore questo lo dico perché arrivo alla conclusione ma per ritornare in una prospettiva ricostruttiva si determina un evidente cortocircuito dico questo perché se noi prendiamo come punto di riferimento la competenza rilasciata delle ente territoriali sulla base è stato già detto della riparta delle competenze fra state e regioni l'articolo 117 evidenzia chiaramente questa competenza alle regioni e ovviamente alla necessità di una funzione di programmazione coordinamento e controllo dell'attività di tutela della gestione della farla selvatica tutto l'orientamento della come dire della giurisprudenza della corte costituzionale ha evidenziato però fin dal diciamo fin dall'indomani della legge della riforma della legge costituzionale del 2001 una posizione estremamente forte la competenza esclusiva del legislatore statale in ragione del fatto che si tratta di una materia ambientale costituisce una materia riservata allo Stato ma addirittura trattandosi di ambiente l'ambiente ha un valore costituzionalmente protetto che in quanto tale di una sorta di materia trasversale in ordine alla quale si manifestano competenze diverse che ben possono essere regionali e di conseguenza si ha sostanzialmente si determina sostanzialmente un limite per le regioni e anche le province autonome per quelle che sono le proprie competenze nell'esercizio delle proprie competenze che concorrono con quelle dell'ambiente quindi sostanzialmente laddove sono stati tutta una serie di interventi da parte anche delle regioni per intervenire nell'ambito di quella fase di quelle funzioni che le sono riconosciute si pone questa limitazione e questo devo dire richiamando proprio quelle sentenze devo dire oramai datate perché partono dalla sentenza 407 2002 ma sostanzialmente arrivano fino a luglio scorso era la sentenza che citava poco anzi il professor Abisini in materia di parchi ma lo stesso nelle altre sentenze sono tutte frutto di quella necessità che le regioni hanno individuato in ragione della famosa potere di deroga che gli è stata assegnata dalla riforma dell'articolo 19 bis della legge 157 quindi sostanzialmente si pone un'evidente difficoltà da parte delle regioni di poter intervenire in quelle che sono le loro attività perché e dico questo sulla base sostanzialmente di una limitazione della funzione amministrativa regionale che viene esercitata da esercitarsi in via legislativa in ragione di quella giurisprudenza che sostanzialmente si basa nella ricostruzione di questi standard minio uniformi che devono essere come dire uguali a livello nazionale qui nasce però una riflessione cioè le esigenze da parte delle regioni in ragione della come dire anche nell'ambito degli interventi sulla caccia o comunque che riconducono alla gestione della fauna in senso più ampio sono spesso espressione di una ricostruzione nelle motivazioni ogni tanto si legge chiaramente di alcune esigenze di una pressione faunistica che è diversificata a livello regionale o quantomeno è diversificata da una parte all'altra e anche con riferimento all'attuale una specie quindi come dire è difficile ricostruire questa ad oggi soprattutto queste standard minio uniformi in un quadro che è fortemente modificato questo sul piano della cosiddetta governance ma vediamo adesso in un contesto diverso sul piano invece rimediale quindi la posizione della tutela dei diritti nel caso dell'imprenditore agricolo danneggiato e qui mi piace evidenziare una considerazione perché quando si parla di danni a fauna selvatica si spensa sempre che questo si sia sostanzialmente sia un danno limitato alla come dire alla perdita del frutto alla perdita del prodotto alla perdita del capo di bestiame o quant'altro devo dire dico questo perché invece la questione di valore maggiore e come dire intervengono tutta una serie di ulteriori aspetti che evidenziano un rischio che come dire si porta non solo sul danno chiaramente evidente che è quello della perdita del prodotto capo o quant'altro ma in una posizione stessa della capacità dell'impresa di poter stare sul mercato aggiungo ancora con tutta una serie di criticità che invece sono tantissime altefatture questo è bene evidente dalla ricostruzione giurisprudenziale io ho provato storicamente a dividere in due parti la parte più tradizionale che vedeva pronuncia anche a sezione unita della Cassazione e che arrivano e che hanno sostanzialmente sciolto tutta una serie di come dire dubbi ermeneutici sulla su alcune qualificazioni se di indennizzo il risarcimento del danno ma che sostanzialmente aveva una posizione abbastanza granitica finalizzata a ricondurre tutto all'indennizzo ma dal 2012 e devo dire proprio grazie alla giurisprudenza della della tribunale di merito meglio della corte e meglio ancora della corte d'appello di Firenze è nato un orientamento nuovo che oggi ha visto si è visto confermare ribadisco sempre a livello di sentenze del merito una serie di posizioni estremamente interessanti che spostano la questione in una logica non più di qualifica se di indennizzo di risarcimento si tratta ma in modo oggettivo riconducono alla fattispecie riesercitoria e di conseguenza nel caso della della responsabilità ex articolo 2043 del codice civile quindi come sulla base dell'applicazione di un animal ledere per il fatto che e qui rientra la tesi dottrinale che era stata già rimarcata in modo molto chiaro quello che deve essere fatto in via preventiva deve essere tale in modo di evitare il danno e se tu regione non poni in essere tutte quelle attività di controllo gestione coordinamento programmazione per evitare il danno ti assumi una responsabilità soprattutto di fronte e questo era mai un problema molto più ampio per la pubblica amministrazione di fronte a dei fatti che sono notori che sono ben noti e quindi non devono essere in qualche modo evitati e quindi il compito delle regioni è proprio quello di definire una sorta di controllo inclusa la scelta e l'adozione e i limiti tracciati e di conseguenza si pone necessariamente una logica di necessità di intervento per evitare un danno e qui l'aspetto fondamentale quindi si sposta l'attenzione ovviamente sulla base anche di un onere probatorio maggiore della parte danneggiata ma che sostanzialmente va a individuare un risarcimento quindi che ovviamente la fattispecie è molto più ampia e piena ma che sul punto del quantum è molto interessante perché le sentenze hanno evidenziato che si deve fare riferimento all'evento non in quanto tale ma su scala aziendale e come tale incidente sui fattori della produzione e quindi anche della capacità dell'impresa di essere e di stare sul mercato il famoso rischio di mercato di cui dicevo prima e quindi ritorno al punto da cui sono partito e quindi si pone quell'evidente contrasto fra un'impossibilità da parte degli enti di poter porre in essere le azioni e dall'altra dalla questione invece che sul piano invece se volete più civilistico si in una logica di individuazione di tutela dei diritti si individua invece la necessità di un intervento e qui il punto un po' derrivo che anticipo una considerazione non so se la questione si sposta tutela valorizzazione ma sostanzialmente si basa su una situazione che evidenzia un regime che è fortemente protezionistico che si basa ancora oggi sulla tutela di una componente ambientale su e soprattutto su una sorta di si tende a isolare l'imprenditore agricolo di fronte a un evento evidente problema in tutto questo ma lo diceva anche prima si diceva anche prima di fronte a sostanziale indifferenza al problema e quindi cosa fare in molte discussioni si tende a ricostruire o ricondurre il problema che non viene a essere affrontato a livello nazionale su scala o comunque sulla base della posizione legislatura europea ho quindi evidenziato e mi sono domandato se quindi la questione è una questione che può essere risolta a livello europeo o è una questione di diritto interno arrivo dico questo perché la legge 15792 ovviamente trova a livello europeo una come dire ed è direttamente riconducibile per quanto riguarda tutta la direttiva uccelli e anche in parte la direttiva habitat però sostanzialmente la legge 15792 è una norma che è nostra nazionale chiaramente richiede un suo adeguamento che può essere solo nazionale questo lo dico perché se voi vedete il rapporto o meglio di fronte all'intervento del legislatore europeo ha sempre subito delle posizioni di adeguamento alla disciplina europea sui vari campi e questo sul famoso articolo 19b che è la chiave sull'esercizio delle derro che da parte delle regioni con cui possono andare a intervenire per ampliare le loro come dire e ampliare le loro competenze proprio in ragione delle varie attività che sono alla base di tutte quelle sentenze che poi hanno trovato il vaglio di costituzionalità e le limitazioni che si è detto ma anche sotto vari altri profili talvolta anche come dire che hanno limitato la possibilità di una come dire di un ristoro mi riferisco ad esempio al tema degli aiuti di Stato e al regime dei minimis che hanno invece limitato ulteriormente in un tema di quantificazione di una somma di riferimento quello che è la posizione di ragione del fatto che sostanzialmente si è ricondotto il tema dei contributi o meglio degli indennizi corrisposti alle colture nell'ambito di quei plafond che il regime dei minimis aveva individuato allo stesso tempo e questo apre poi un ultimo rispetto devo dire che molte regioni hanno utilizzato molti fondi che erano previsti nei capitoli di bilancio del PSR come dire per andare ad alimentare il come dire l'alto plafond degli indennizi in modo un po' da accontentare le esigenze senza però un'evidente soluzione che non si è andata a trovare e quindi cosa qual è la prospettiva andando in avanti la considerazione che a me viene evidente è che la posizione oggi è una posizione che richiede certamente un intervento a livello nazionale ma è nostro e in ogni caso è una posizione che è fortemente caratterizzata una matrice ambientale piuttosto che di quella prettamente agricola e in questo mi viene in mente un concetto a cui si è fatto riferimento ma il stesso titolo la mia relazione lo metteva in evidenza di quello sulla sostenibilità dico questo in una prospettiva ancora più avanzata evocando e richiamando anche alcuni testi che sono stati già esaminati in precedenza è noto ma dico due parole banalissime velocissime che il concetto della sostenibilità trova come dire sul campo giuridico una base sulla base di quel principio di sviluppo sostenibile che ormai è fatto proprio a livello delle fonti europee interne e che poi l'agenda 2030 ha come dire decodificato e ampliato evidenziando la sua cosiddetta multidimensionalità del concetto che sostanzialmente si lega a questi tre dimensioni ambientale economica e sociale che sono tra loro non alternativi ma integrate non divisibili quindi la visione è più ampia del concetto e ovviamente poi viene anche valorizzata su una dimensione globale dico questo perché se noi vogliamo seguire una prospettiva che della gestione della fauna selvatica sia sostenibile e in questo possa trovare un ruolo anche l'attività venatoria come la legge anche attualmente la prevede si deve prendere in considerazione non solo il punto di riferimento ambientale ma anche il punto economico e sociale che è una componente o meglio è parte della sua dimensione dico questo che poi trova conferma anche nell'orientamento che sta degli atti europei perché se noi guardiamo ho fatto una ricostruzione che ovviamente non è completa ma è abbastanza spero esaustiva se noi guardiamo gli atti di soft law che hanno evidenziato l'orientamento proprio con riferimento alla sostenibilità e quindi che si basano sul green deal europeo probabilmente la strategia del produttore al consumatore che poi è alla base ed è richiamata anche nei progetti di riforma della PAC si fa spesso riferimento a questo concetto di sostenibilità che poi legata alla biodiversità pone alcuni interrogativi che non vanno nella giusta direzione della tutela dell'imprenditore agricolo e della sua attività e ne faccio alcuni esempi dico questo e denuncio questo lungo elenco perché la visione deve essere a mio avviso sempre ampia quindi si devono prendere in considerazione tutti quegli atti che hanno una valenza certamente non sono atti vincolanti ma hanno una valenza come dire programmatoria di quelle che sono la direzione che a livello europeo si sta portando avanti quindi se io guardo la relazione della commissione al Parlamento del 2020 sullo stato della natura dell'Unione Europea fatta proprio anche dalla strategia nazionale sulla biodiversità del mite di qualche mese passato si fa spesso riferimento ma qui sono in linea con quanto è stato detto precedentemente alla necessità di preservare ripressionare gli ecosistemi della biodiversità implementare il ruolo della natura 2000 rete natura 2000 e anche l'ampliamento delle zone giuridicamente protette che sono le famose ZPS ZSC che rientrano nel sistema europeo di protezione delle aree che sostanzialmente nel nostro come dire nel nostro paese hanno creato forti problemi sul piano dell'attuazione ma prima ancora del sistema della pianificazione perché non c'è non si riesce ad avere una visione di insieme che poi sostanzialmente porta all'ente preposto a poter attuare quelle che sono le misure di intervento per la riduzione delle specie quindi si determinano delle aree che poi sono spesso anche come dire degli incubatori con cui queste specie trovano necessariamente dei regimi di protezione ma allo stesso tempo questi convivono con altre aree limitrofe con cui necessariamente si tende ad avere una limitazione con tutta una questione che soprattutto su un territorio come il nostro è molto difficile da attuare sul piano non solo della governance ma anche per la definizione di un regime di tutela sempre che coeguarda anche l'attività di impresa e qui faccio e vado avanti anche chiudendo alcune considerazioni che a mio avviso sono fondamentali che sono innanzitutto la prospettiva qui richiamo quanto detto in apertura ma è in linea con quello che è stato evidenziato certamente se noi guardiamo alla gestione sostenibile della fauna selvatica questa deve essere evidenziata con riferimento a un a un contesto normativo che è certamente in forte evoluzione ma che pone al centro una visione di una dimensione più ampia che sia ambientale ma economica e sociale e di conseguenza non può essere posta in essere a discapita dei sistemi produttivi in questo caso di quello che è l'attività agricola e quindi di tutto quello che sono le attività rilevanti con cui questo porta in essere e quindi richiamo proprio i temi della food security a cui si faceva riferimento e questo è stato già detto in precedenza ma mi piace rilevarlo si deve fare attraverso un unico obiettivo che è quello della modifica della legge statale la legge 157 92 perché questo non perché non persegue determinati obiettivi ma perché quell'equilibrio quegli interessi che venivano a essere presi in considerazione in precedenza in questo momento non riescono a raggiungere l'auspicato equilibrio delle specie sul territorio e quindi richiedono necessariamente una nuova ridefinizione di un sistema che a me avviso dovrebbe partire da una riqualificazione o da una modifica della qualificazione giuridica della fauna selvatica perché la giurisprudenza lo sta dimostrando lo Stato non è più capace e non è più nella possibilità di poter disporre e gestire e custodire queste specie di conseguenza magari mettendo al centro dell'attività l'imprenditore agricolo come già è fatto con evidente successo in altri ambiti delle attività poi la seconda l'ultima considerazione il ruolo della caccia il ruolo della caccia è ovviamente una attività è stato già detto fortemente legata al territorio è un'attività che ha un interesse o quantomeno è strumentale o funzionale al perseguimento degli obiettivi dell'equilibrio sulle specie ma non può essere la sola soluzione io ricordo la legge obiettivo della come dire la legge regionale toscana che aveva previsto in un tempo definito il perseguimento di certi obiettivi questo si basava su un concorso di azioni che non era solamente quello dell'attività venatoria quindi riconducibile l'attività di caccia ma anche a quello che erano delle ulteriori attività di abbattimenti per perseguire quell'obiettivo che era quello della cosiddetta dimensione su quello che era appunto l'equilibrio ottimale su base territoriale insomma come dire un cambio di prospettiva che deve essere posto in essere noi l'abbiamo più volte evocato in questa sede poco ascoltato a livello come dire nazionale però istituzionale però questo rappresenta una criticità di fondo che è fortemente evidente ed è assolutamente in linea anche con quello che veniva evidenziato prima da una prospettiva parzialmente diversa che era quello dell'attività e della riforma della PAC qui la posizione è come dire la relazione il punto di riferimento dei danni da fauna selvatica evidenziano una totale isolamento dell'imprenditore agricolo di fronte a un'evidente criticità assegnata dalla crescente densità della fauna selvatica su base territoriale chiudo e ringrazio dell'attenzione grazie grazie a Nicola Lucifero per la sua relazione che si innesta in un solco ormai tracciato della relativa alla ormai insostenibilità dei danni che è la fauna selvatica arreca all'agricoltura do la parola al professor Marco Livi dell'Università Ca' Foscari di Venezia che ci parla di fauna selvatica e la disciplina della caccia nel sistema regionale buongiorno buongiorno a tutti anch'io ringrazio l'Accademia di Giorgofili e gli organizzatori del convegno e ringrazio anche i relatori che mi hanno preceduto perché con la chiarezza loro consueta perché li conosco hanno tracciato un quadro che mi rende più agevole anche anche la mia relazione è anche più breve casomai chiedo al presidente di farmi dei segnali se sto strabordando ma penso di concentrarmi su due cose essenzialmente perché il tema che mi è stato assegnato che è relativo appunto al sistema regionale alla fauna e alla caccia nel sistema regionale pone un primo problema e il problema è ma c'è un sistema regionale perché abbiamo appena sentito e li riprenderò ora alcuni limiti così forti alle potestà regionali che fanno dubitare che possa esistere allo stato nell'attuale stato di cose un sistema regionale relativo alla fauna selvatica e relativo all'attività venatoria dico due cose una che riguarda la potestà legislativa e una che riguarda le funzioni amministrative sulla potestà legislativa è già stata ricordata la giurisprudenza della Corte Costituzionale e di come il confine tra potestà legislativa regionale e potestà legislativa statale sia tutto spostato a favore dello Stato e questo io credo dipenda da un vizio di origine della legge 157 del 92 oltre che dal fatto che la 157 del 92 nasce in un contesto del vecchio articolo 117 della Costituzione e vorrei anche sottolineare perché si è detto che la legge 157 è vecchia di 30 anni beh no io direi che è vecchia di 50 anni perché la 157 del 92 non fa altro che riprendere quello che diceva la legge del 77 quindi abbiamo una legge vecchia di 50 anni non di 30 anni e quindi inserite in un contesto in cui le regioni forse ancora sì c'erano ma erano appena nate perché le regioni sono state istituite nel 70 non nel 48 con l'articolo 117 della Costituzione ma molto tempo dopo allora qual è questo vizio di origine che la legge in realtà è una legge che regola l'attività venatoria ma allo stesso tempo è una legge relativa alla protezione della fauna selvatica ma qual è il problema che manca una legge generale di protezione della fauna selvatica si è pensato di ragionare in termini di tutela della fauna selvatica come tutela della fauna selvatica rispetto alla caccia quindi è quella limitata prospettiva che ha un po' condizionato tutto sì che da un lato manca una protezione generale della fauna dall'altro questa protezione della fauna non ha potuto trasformarsi in gestione della fauna che è ciò che manca e di cui ci rendiamo conto non ha potuto perché è proprio il vizio d'origine è stata pensata l'obiettivo qual era quello di proteggere la fauna selvatica dalla caccia da qui secondo me derivano diverse conseguenze deriva il fatto per esempio che la 157 detta norme di principio alle quali le regioni dovevano attenersi nella disciplina della materia secondo però il vecchio articolo 117 ma come era prassi e in virtù del fatto che mirava non solo a regolare l'attività venatoria ma a proteggere la fauna selvatica aperta parentesi l'attività venatoria rientrava tra le materie di legislazione concorrente quindi legge statale norme di principio legge regionale disciplina della materia rispetto alle norme di principio ma conteneva anche norme di protezione della fauna selvatica che non è nell'elenco delle materie del vecchio 117 quindi per quelle materie vi erano una potestà piena statale cosa ha comportato che la legge 157 non è una legge di principio è una legge di disciplina della materia tanto che noi ci accorgiamo quando abbiamo visto le leggi regionali non erano che fotocopie della legge statale con qualche forse piccola variazione ma con limitatissimi ambiti di autonomia riforma costituzionale nella riforma costituzionale la caccia non viene più nominata quindi si pensa rientra nella potestà legislativa cosiddetta residuale quindi potestà piena delle regioni ma così non è perché la corte costituzionale non lo ha detto solo in questo caso lo ha detto anche in altre circostanze dice prima di vedere se siamo nell'ambito di materie innominate e quindi rientranti nella potestà legislativa regionale dobbiamo vedere se quella materia non rientri in realtà tra le materie nominate e la caccia è stata fatta rientrare nella materia tutela dell'ambiente e come tutela dell'ambiente potestà esclusiva da qui si capisce che le regioni hanno un ambito limitatissimo di disciplina in materia di attività venatoria e sono state citate dal professor Albisini prima e anche da Nicola dal professor Lucifero poi le casi l'unica per quella che si può considerare una apertura a un diverso modo di perché la precisiamo anche questo qual è la posizione della Corte Costituzionale la materia la tutela dell'ambiente è materia valore o materia trasversale e come tale non incontra il limite di altre potestà rimane nella potestà legislativa esclusiva statale la regione fino a che quando può derogare alla legge statale solo nel caso in cui innalzi lo standard di tutela cioè la legge nazionale pone uno standard lo diceva prima il professor Lucifero uno standard minimo di tutela la legge regionale può discostarsi dalla legge statale solo elevando il livello di tutela bene quindi ogni normativa regionale è caduta sotto la scura della corte costituzionale quando si distaccava quando derogava alla legge statale tranne quello che è successo a gennaio la corte costituzionale con la sentenza 21 del 21 del 2021 dice beh no si trattava lì di piani di controllo nel caso non siamo nell'attività venatoria ma rispetto ai problemi che stiamo esaminando e poi fa delle considerazioni generali per questo secondo me è importante che considerazioni fa la corte costituzionale dice bene qual era l'arena su cui si combatteva si è condotta una grande battaglia tra Stato e regione in materia di controllo quella relativa ai soggetti che possono eseguire l'attività di controllo cioè l'articolo 19 dalla 157 elenca solo una serie di soggetti soggetti istituzionali guardie provinciali guardie forestali mentre le regioni tentavano di ampliare questi soggetti estendendolo anche ai cacciatori e la corte costituzionale con una giurisprudenza che ormai era consolidata diceva beh no siccome viene aumentato il numero dei soggetti si abbassa lo standard di tutela cosa fa invece la corte costituzionale a gennaio dice un'altra cosa dice è vero confermo la giurisprudenza della corte costituzionale nel mantenere fermo il principio che la legge statale fissa lo standard minimo di tutela e che le regioni possono solo innalzare il livello di tutela ma in realtà la legge regionale che ammette altri soggetti eleva lo standard di tutela visto che il controllo serve a mantenere gli equilibri ecologici e così via quindi mantiene il principio ma va a pronunciarsi in un punto molto importante e cioè cos'è lo standard di tutela quando è che io posso dire che uno standard di tutela viene elevato oppure viene abbassato e questo secondo me è un punto fondamentale a piccola parentesi le condizioni alle quali la corte costituzionale consente ad una legge regionale di inserire altri soggetti è che abbiano fatto dei corsi di abilitazione su relativi alla tutela dell'ambiente quindi e che in realtà il controllo si è eseguito da personale istituzionale rispetto al quale i cacciatori che hanno seguito quel corso siano meri esecutori cioè è fondamentale il coordinamento cioè il fatto che il controllo sia svolto dall'istituzione pubblica questo lo dico perché mi è capitato di leggere in un giornale proclamato che in un certo in una certa zona gli operatori se le controllori svolgono attività completamente in maniera completamente autonoma che significa che si sono autodenunciati per aver esercitato la caccia in tempi e luoghi non consentiti ma questo per dire che assieme a nozioni di ecologia in quei corsi forse qualche nozione di diritto andrebbe insegnata almeno per non dire per non rischiare l'autodenuncia quindi questa è un'importante apertura importante apertura nella nella mia lettura è proprio questo cioè quando è che noi possiamo dire che alziamo o abbassiamo lo standard di tutela perché secondo me è da qui che si può partire in via ricostruttiva considero questo lo standard di tutela non può esistere in via generale e assoluta perché è dipendente da una realtà locale perché la biocenosi la no l'ecologia sono fatti locali la situazione che c'è nelle Alpi bellunesi non può essere la stessa che c'è in Calabria oppure in Toscana oppure in Emilia-Romagna può benissimo ecco facciamo un'ipotesi supponiamo che una regione detti una norma che consente un'estensione dei tempi di caccia relativa al cervo bene aumenta o abbassa lo standard uno potrebbe dire anzi probabilmente verrebbe da dire da parte di un giurista cioè di uno che non sa come funzionano le cose nella realtà potrebbe dire beh lo abbassa perché consente un maggior prelievo una maggior pressione venatoria quindi lo abbassa sì ma se in quella zona il cervo è in ottima salute anzi se ne sono troppi e penalizzano altre specie ho presente non so il problema dei cervi che eliminano completamente il sottobosco e tolgono spazio vitale adesso io al capriamo ma al gallo cedrone per esempio c'è il problema nelle Alpi Bellunesi il capo il gallo cedrone rischia di scomparire perché manca il sottobosco perché ecco io naturalmente ho riguardo a parlare di queste cose ma allora in quel caso alziamo il livello di tutela ambientale allora il punto è questo per decidere se io abbasso o innalzo il livello di tutela ambientale non posso trascurare la realtà locale allora mi viene da pensare che una lettura costituzionalmente orientata sempre in questa prospettiva di innalzamento abbassamento della tutela ambientale non possa non puntare su un fatto e cioè che caratteristiche deve avere la norma nazionale per elevare il livello di tutela ambientale dice il professor Lucifero che è necessario intervenire nella legislazione statale come perché secondo me il decidere come è anche aprire diciamo l'accordo costituzionale ha aperto una strada ma la si può proseguire in che modo la si può proseguire il mio pensiero è questo se la norma statale impone comportamenti cogenti questi sono i tempi di caccia queste sono i modi e le forme di caccia difficilmente pone un adeguato standard di tutela ambientale una norma statale che pone un livello uno standard ambientale deve essere conformata non secondo statuizioni prescrittive di comportamenti ma statuizioni relative ai criteri una cosa che mi stupisce di tutte le motivazioni della corte costituzionale è la grande assenza dell'articolo 5 della costituzione articolo 5 della costituzione stabilisce che la legislazione statale deve adeguare lo stato deve adeguare i metodi della legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento non ho trovato una sentenza della corte costituzionale che citi l'articolo 5 invece nel secondo me come parametro di costituzionalità anche per valutare i confini tra potestà regionale e potestà statale non ci può che essere un riferimento all'articolo 5 e qual è una legislazione adeguata all'autonomia e al decentramento quella che consente alla legislazione regionale di adeguare la normativa alla realtà locale passo all'altro lascio lascio in sospeso lascio in sospeso ecco però credo di aver spiegato qual è il mio punto di vista vorrei dire qualcosa anche sull'altro aspetto la funzione amministrativa per quanto riguarda la funzione amministrativa noi abbiamo una serie di poteri regionali ma le recenti ordinanze dei tar e le sentenze degli anni scorsi eccetera ci fanno capire che in realtà il margine di scelta delle regioni è veramente limitato da cosa è limitato dal fatto che deve essere acquisito il parere dell'ISPRA allora il punto è questo il parere dell'ISPRA è obbligatorio e basta o è anche vincolante formalmente nelle sentenze si legge è obbligatorio ma non vincolante proprio in apertura di ogni anche delle ordinanze ma anche delle sentenze adesso c'è il problema dei calendari venatori ma riguarda anche la caccia in gero ogni sentenza dice è obbligatorio ma non vincolante tuttavia tuttavia di fatto è vincolante perché perché si ritiene perché la regione può discostarsene con adeguata motivazione ma la motivazione il TAR non la considera mai adeguata ha ragione o ha torto il TAR secondo me ci sono due problemi e qui sì se non volessimo essere troppo condizionati dal e guardate io non faccio il tifo né per l'ISPRA né per le regioni però provo a leggere le cose da giurista allo stato della legislazione attuale secondo me il parere dell'ISPRA è vincolante ma è vincolante perché lo stabilisce la legge ma non la 157 del 92 lo stabilisce la legge 241 del 90 sul procedimento amministrativo che ha introdotto una nuova disciplina dei pareri perché secondo me il TAR ragiona ancora come si studiava nei manuali di quando ho fatto l'università io i pareri si distinguono in facoltativi obbligatori e vincolanti i vincolanti si distinguono dagli obbligatori perché è previsto che l'autorità procedente si uniformi al parere come avviene nel caso di nell'articolo adesso non mi ricordo aiutami Nicola quando si prolunga il periodo il periodo dell'attività venatoria mi pare sia l'unico caso articolo 18 mi pare sia l'unico caso in cui è previsto che la regione si deve uniformare allora il ragionamento qual è? dove non è previsto che si debba uniformare allora il parere è obbligatorio e non vincolante però noi ci troviamo con una legge generale sul procedimento che intanto ha introdotto la distinzione tra pareri e valutazioni tecniche cosa che la dottrina diceva già da tempo ma che la normativa e la giurisprudenza non dicevano e cosa dice la legge 241 del 90 sui pareri sulle valutazioni tecniche mentre i pareri hanno una propria disciplina le valutazioni tecniche e quella dell'ISPRA è una valutazione tecnica in questo caso il regime è ben diverso dai pareri il regime della valutazione tecnica è che se un'autorità non ottiene ecco la differenza è questa se un'autorità è obbligata a chiedere un parere e il parere non viene reso entro un determinato termine l'autorità procedente può chiedere può procedere indipendentemente dal parere un silenzio che non chiamerei silenzio assenso ma un silenzio in utilità potremmo definirlo se chi deve esprimere il parere non lo esprime l'autorità procedente prosegue senza parere e nelle valutazioni tecniche no nelle valutazioni tecniche l'autorità procedente deve chiedere la valutazione tecnica ad un altro ente questo in caso di silenzio ma io il mio ragionamento è se in caso di silenzio non può procedere effettuando essa stessa le valutazioni ma deve rivolgersi ad un altro ente tecnico l'università eccetera allora tanto più se il parere è negativo non può essere superato dalla valutazione tecnica interna dell'amministrazione cioè secondo me qui abbiamo proprio un limite legislativo nel poter decidere in senso diverso da quello che risulta dal parere tra virgolette parere dalla valutazione tecnica dell'ISPRA non solo ma se la valutazione tecnica è resa in ambito da enti preposti alla tutela ambientale e qui con quella giurisprudenza della Corte Costituzionale che conosciamo ci siamo dentro in pieno allora non si può neanche sostituire l'ente tecnico con un altro ente tecnico in pratica mettendo insieme e ho finito la 157 del 92 leggendola alla luce della legge generale sul procedimento amministrativo io credo che non c'è scampo la competenza dell'ISPRA è una competenza riservata al momento se si vuole cambiare bisogna cambiare qualche norma individuare un altro soggetto qualificato chiudo qui grazie grazie al professor Oliva per queste riflessioni e per diciamo i concetti che ci ha introdotti sulla tutela l'innalzamento o l'abbassamento del livello di tutela molto interessante e penso che che sia sia argomento argomento di riflessione do la parola a Enrico Marone che non vedo ma forse è collegato non è in collegamento ne è rappresentato ne è rappresentato qui da aveva detto che aveva degli impegni degli impegni istituzionali e non sapeva se ce la faceva quindi evidentemente Enrico Marone non c'è quindi do la parola Francesco Sorbetti Guerri che dell'Università di Firenze già professore dell'Università di Firenze che da anni fa parte del nostro socio fondatore del nostro gruppo di di lavoro sulla fauna selvatica e che si occupa di sistemi di prevenzione per dei danni da fauna selvatica prego Francesco accendi il microfono si si sente allora buonasera a tutti io ho molto apprezzato tutti gli interventi che sono stati fatti finora e non mi nascondo che mi trovo anche spiazzato perché molte di quelle cose che sono state dette sono un po' quelle che avrei voluto dire anch'io quindi non voglio tornare troppo su certi argomenti voglio solo ricordare un po' fare un po' breve scendo all'attività che abbiamo svolto in questo settore in particolare nel settore della prevenzione dei danni da fauna selvatica dal punto di vista tecnico nell'ambito di cinque convegni incontri che abbiamo tenuto qui presso l'accademia mi pare a partire dal dai primi 2014 da vari anni e ai quali rimando perché ci sono gli atti nel sito dell'accademia e quindi per alcune particolarità forse mi riferisco in particolare perché so che sono in collegamento anche studenti dei corsi di laurea femonistica delle università di Firenze di Venezia eccetera posso fare riferimento per eventuali dettagli nel 2013 si parlò ancora di aspetti tecnici relativi al difficile equilibrio fra la fauna selvatica e l'agricoltura e ricordo qualcuno che era presente forse lo ricorderà che in quell'occasione io affermai che questo problema è un problema in realtà antico come il mondo certo feci vedere questa diapositiva che riguarda alcune frasi riportate nelle georgiche da Virgili oppure nei salmi eccetera quindi tanto per dire che il problema è antico non per questo però non ce ne dobbiamo occupare si è evoluto è cambiato nel tempo e si è parlato tanto di 157 anche la 157 del 92 quindi qualche anno è passato parlava dopo aver definito lo stato giuridico della fauna selvatica diceva all'articolo 26 per far fronte ai danni altrimenti risarcibili arricate alla produzione agricola e alle opere approntate su terreni coltivati a pascolo della fauna selvatica quindi già allora si parlava e all'attività venatoria si parlava di questa possibilità ma in realtà a quali danni ci si riferiva non certo ai danni che si hanno adesso erano danni limitati forse più si faceva riferimento forse più ai danni arricati da chi esercitava l'attività venatoria piuttosto che ai danni da selvatici perché potevano essere localizzati danni da storni danni nelle zone di rivoluzione e cattura danni da galliformi da uccelli da passeri eccetera ma ora siamo in tutta un'altra dimensione e sempre per ritornare a quanto diceva la la 157 le regioni per migliorare il patrimonio zootecnico per la tutela del suolo per motivi sanitari eccetera eccetera provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia siamo in un altro mondo me ne rendo benissimo conto però non è che ci stiamo inventando un nuovo fenomeno lo stiamo mettendo a fuoco nella sua attualità nelle sue nuove caratteristiche infatti questo fenomeno presenta oggi caratteristiche di ben diversa gravità e di ben diversa natura rispetto a quanto si poteva ipotizzare negli anni negli ultimi anni del secolo scorso chi di noi allora era già diciamo in campo e praticava e viveva la campagna per vari motivi si sapeva benissimo che a giro per i boschi non c'era il rischio di incontrare un cinghiale un capriolo un daino un lupo oggi la cosa è ben diversa e sia per quanto riguarda gli ungulati che sono forse le specie più problematiche ma anche per quanto riguarda gli uccelli penso agli storni per esempio un agricoltore alcuni anni due o tre anni fa presso il quale avevamo condotto alcune sperimentazioni di recinzioni elettrificate al momento qualche giorno prima della pandemia mi telefonò e gli chiesi come andava mi disse per i caprioli e i cinghiali va bene però ora sono arrivati gli storni e quindi il problema è ampio so che in certe zone del ferrarese eccetera ci sono problemi di oche selvatiche che colpiscono certi certe coltivazioni e qui un po' ho messo una diapositiva che è dice parla da sé diciamo un po' queste sono le specie che a cui ci facciamo riferimento noi abbiamo avuto degli incrementi nella diffusione delle specie selvatiche ma anche degli incrementi numerici delle singole popolazioni professore Apollonio prima ci ha fatto vedere benissimo quindi non è il caso di tornare sopra voglio solamente riportare questa tabella nella quale c'è la stima del numero agli ungulati in Toscana dal 2000 al 2018 e qui questi sono i dati dati ufficiali della giunta regionale e quindi è abbastanza chiaro che non è che stiamo parlando di un problema inesistente per quanto riguarda i danni qui ho i dati solamente fino al 2018 ma vedete che si parla di cifre non non indifferenti e qui di questo problema ne abbiamo parlato abbiamo dovremmo riparlare si dovrà affrontare perché l'agricoltura non può essere abbandonata io ho lavorato molto in campagna sperimentando sistemi di prevenzione ho parlato molto con gli agricoltori mi sono reso conto di quelli che sono i problemi non solo di natura economica ma anche di natura psicologica del fatto che è un inciampo in più è un problema in più per l'azienda agricola dover preoccuparsi anche di piazzare delle recensioni avere poi magari delle controversie con le persone che sono abituate a frequentare quella zona insomma non è soltanto un problema di dire quanto costa la recensione costa tanto la regione te li dà costruiscila e il problema è risolto no non è solo questo ma quello che secondo me che rientra un pochino più nell'argomento di questo convegno è quello dei danni che si hanno al di là del settore agricolo all'ecosistema in senso generale i danni di questa di queste sovrappopolazioni è già stato accennato possono essere danni di vaneratura diciamo causati da specie completamente diverse i danni ai boschi i danni ai boschi sono quelli meno facilmente quantificabili col professor Lamarck abbiamo studiato negli anni passati quello che stava accadendo in delle parcelle di rinnovazione in cedui su del del Mugello quando si parla e qui mi viene a mettere a ricordare quando si parla di densità si deve far riferimento a un concetto più ampio di quello che avviene oggi oggi si parla di aria non vocata lì gli ungulati non ci devono stare di aria vocata lì ci possono stare quali sono le aree vocate secondo la diciamo la la ripartizione attuale in realtà sono i boschi perché nelle aree le altre aree sono le aree a parte l'urbanizzato sono aree agricole e quindi lì non ci possono stare perché mangia l'uva il grano il mais eccetera ma è pensabile che un bosco sostenga popolazioni illimitate anche lì quando si parla di aree vocate bisogna stabilire una densità che è commisurata con quel tipo di aree non tutti i boschi sono uguali una faggeta non è uguale a una castagnetta non è uguale a una petina quindi questa illusione che si mandano tutti i cinghiali nei boschi e si salva l'agricoltura è priva di fondamento bisogna rifletterci un po' non voglio parlare degli incidenti stradali perché ne abbiamo parlato tanto ma questa immagine dove sulla destra in alto mi fa vedere cosa succedeva in quella famosa durante quel famoso studio in quella parcella di pochi ettari di una cerreta di notevolissime dimensioni dove c'erano i cervi lì i cervi probabilmente erano avevano una densità abbastanza diciamo sostenibile però quando si tagliava un ettaro di ceduo e la primavera successiva il ceduo le ceppaie cacciavano tutti i cervi che c'erano in quella zona andavano a nutrirsi su quelle ceppaie quindi in quel apprezzamento se prima c'era la densità di un cervo su mille ettari poi avevamo dieci cervi su un ettaro quando era il momento l'ora del pranzo il momento del pranzo quindi data anche la selettività di queste specie succede succede dal punto di vista forestale un completo cambiamento della fisionomia dei nostri boschi ci possono essere dei sistemi di prevenzione spesso non tutti funzionano bene non tutti funzionano nello stesso modo molto spesso non sono ben accolti dagli agricoltori per quello che vi dicevo prima perché è comunque un accidente in più in tutti i loro problemi devono essere gestiti però in modo corretto quindi capite noi abbiamo fatto vari tipi di sperimentazioni non esiste rischio zero come si diceva ma quando una popolazione è portata entro i limiti tollerabili i sistemi di prevenzione di protezione possono aiutare comunque cioè se io ho un solo cinghiale in mille ettari nessuno mi garantisce che una notte entri nella mia coltivazione di uva e me la mangi mi faccia un danno anche notevole e quindi però quando le densità sono modeste gli animali non sono spinti a varcare certe sogni certe recinzioni eccetera è molto più facile il loro controllo io quest'anno ho visto delle cose che non avevo mai visto ho visto in una zona di rivoluzione e cattura qui vicino a Firenze proprio nel mese scorso con una carenza di vegetazione per mancanza di piogge eccetera i caprioli che mangiano facilmente ci sono mangiate tutte le piante di carciofo lì non esistono coltivazioni industriali sono piccole coltivazioni addirittura le piante degli zucchini mangiano le foglie delle piante degli zucchini che non sono proprio la loro dieta primaria ma quei danni a cui si faceva prima noi ci preoccupiamo di salvaguardare la biodiversità di salvaguardare l'orchidee di salvaguardare le piante e poi quando si hanno delle popolazioni come si diceva prima o c'è il cervo che distrugge il sottobosco e quindi si hanno dei danni al gallo cedrone o hai il cinghiale che pascola avanti e dietro e si mangia tutto quello che trova compresi le piante che noi riteniamo protette le uova delle specie che neidificano a terra ho visto dei formica di formica ruffa distrutti perché i cinghiali per altri motivi si scrufolavano tutto attorno quindi questo è credo uno dei problemi fondamentali quindi tener conto che la sovrappopolazione di queste specie animali crea dei grossi problemi anche di natura ecologica che sono più difficili da quantificare più difficili anche da rimediare da gestire quindi se da un lato diciamo è possibile pensare e prevedere strategie di prevenzione e protezione dai danni efficaci se è necessaria la formazione di tecnici specializzati nell'assistenza tecnica in questo settore perché più volte abbiamo visto che impianti di protezione sistemi di protezione erano stati montati in modo errato e quindi non funzionavano razionalizzando il prelievo venatorio e qui si ne parlava prima di normative da adeguare eccetera ma anche eventualmente costituzione di personale deputato alla gestione faunistica in sede comprensoriale perché si è visto con l'applicazione dell'ultima norma poi in realtà non è sufficiente l'azione venatoria a tenere sotto controllo queste persone quindi in un futuro considerando anche l'età media dei cacciatori e la disaffezione sempre crescente dei cacciatori anche per quella che è diciamo l'atteggiamento dell'opinione pubblica nei confronti dei cacciatori bisognerà pur pensare che si riesca in qualche modo a formare delle persone a cui dovrà essere demandata a cui magari l'agricoltore si potrà rivolgere oppure l'amministrazione si potrà rivolgere per almeno per tenere sotto controllo le situazioni meno gestibili e si qualcuno ha detto prima la valorizzazione della produzione delle carni anche qui è un problema abbastanza ampio perché qualcuno mi dice sì però per poter rendere economicamente valida la valorizzazione delle carni molto spesso c'è bisogno di grandi quantità molto spesso i commercianti richiedono grandi quantità non credo ci si debba però soltanto rivolgere alla grande distribuzione forse quello che è importante è che queste carni che circolano comunque che basta girarsi attorno sagre da tutte le parti almeno siano passate da un controllo veterinario e quindi diano una garanzia di sanità e poi in certe aree anche la valorizzazione turistico naturalistica della fauna può essere un qualcosa che è utile per esempio per aziende faunistiche marginali dove si ha ricchezza di fauna selvatica così come si fa in tante zone dell'agriturismo pensare anche a forme di agriturismo di tipo faunistico quindi utilizzare per esempio la presenza della fauna per organizzare delle visite della sorta di safari faunistici e questo particolarmente nelle zone più svantaggiate la fauna sappiamo è patrimonio dello Stato e quindi per venire dietro a quanto si è detto finora è lo Stato che prima di tutto deve intervenire quando si parla di cambiare le leggi cambiare le norme è chiaro è lo Stato è il Parlamento e poi sono via via a scendere le regioni eccetera quindi lo Stato ha il dovere di tutelare la collettività garantendo la conservazione degli equilibri ambientali quindi non siamo più nel 92 oggi sappiamo che queste specie possono sicuramente quando sono in sovrannumero creano degli squilibri ambientali e quindi lo Stato in qualche modo si deve muovere ha il dovere inoltre di promuovere e tutelare le attività produttive a partire da quelle del settore primario e di consentire ecco prima si diceva la diatriba fra Stato e regioni di raggiungere l'obiettivo del dimensionamento delle popolazioni animali compatibili con queste esigenze quando si innesca la diciamo la la lotta fra la lotta diciamo l'antrapposizione fra competenze dello Stato e competenze della regione alla fine poi per mancanza di poter utilizzare personale formato nel controllo perché parliamoci chiaro se noi aspettiamo che questi animali siano tenuti sotto controllo dalla polizia provinciale o dai carabinieri forestali allora dimentichiamoci di terli sotto controllo se queste operazioni sotto il loro coordinamento possono essere fatte a cacciatori formati forse qualcosa si riesce a fare ma si vede che nonostante che si sia fatto non è stato sufficiente quindi bisogna ripensarci bene io vorrei ricordare un'ultima cosa alla fine non si può affrontare questi argomenti e quindi ci dovremmo un pochino muovere anche in questo senso siamo un po' troppo abituati ci siamo abituati nel tempo a seguire quello che dicono le mode secondo le quali il cacciatore è brutto è cattivo eccetera non agisce nell'interesse degli equilibri ecologici e così via questo perché forse come cacciatore non siamo stati in grado io sono un ex cacciatore ormai ma insomma sono stati in grado di seguire le stesse vie di comunicazione che hanno seguito altri altri diciamo movimenti che io più che ambientalisti direi animalisti ma noi dobbiamo anche far passare questo messaggio Odum diceva che è sottinteso che il genere umano è una parte della natura cioè noi facciamo parte dell'eposità non siamo dei marziani capitati qui per caso e quindi non si deve toccare niente per non creare dei problemi noi da sempre siamo stati parte della natura e perché usando il termine natura si comprende tutto il mondo vivente e ora che siamo in questa situazione ci dobbiamo rendere conto che quando molto spesso è l'uomo ci diceva Apollonio tutte molto spesso queste ricomparse di animali selvatici particolarmente ungulati è stata opera dell'uomo a volte la forestale a volte i cacciatori a volte e quando è l'uomo che ha creato questi problemi bisogna mettersi in testa che è l'uomo stesso che deve intervenire per rimediare non si può aspettare che le cose vada così avanti quindi specialmente quando l'uomo assume la veste di soggetto deputato alla gestione ambientale e quindi ancora prima quando si trova nei panni del legislatore io credo che un passo avanti si potrà fare soltanto se riusciamo a cambiare un po' questo classico atteggiamento che c'è stato noi possiamo trovarci tante volte a parlare di questi problemi gli agricoltori diranno sempre che giustamente si lamentano i cacciatori diranno sempre che giustamente si lamentano però alla fine poi si salutiamo e non si ottiene niente di efficace per il futuro vi ringrazio grazie al professor Francesco Sorbetti Guerri per la sua relazione per queste informazioni ulteriori che ci ha dato do la parola al dottor Michele Sorrenti della Federazione Italiana della Caccia che parlerà del contributo dei cacciatori alla conservazione della biodiversità grazie buona serata a tutti e ovviamente ringrazio l'Accademia per avere ospitato questo convegno organi promosso e tutti i promotori che lo hanno voluto e la mia relazione vuole esporre quanto il mondo venatorio in Europa e in Italia ha fatto e continua a fare nel campo della conservazione degli habitat naturali e spesso del ripristino e quindi in generale alla biodiversità parola molto abusata ma che dobbiamo per forza farne uso e mi mi ha fatto piacere l'ultima tutta la relazione del professor Sorbetti Guerri e in particolare l'ultima perché il concetto che l'uomo e quindi anche tutti i portati l'uomo sia un portatore di interesse che possa anche nel quadro della nuova PAC guidare le iniziative che sugli habitat agricoli possano migliorare lo stato attuale che come vedremo è tra quelli più minacciati l'agenzia europea per l'ambiente per conto della commissione in questo rapporto sulle direttive natura che ha già menzionato prima il professor Lucifero ha identificato questi quattro parametri tra cui l'agricoltura è la più urgente pressione minaccia sugli habitat e le specie vi sono altri ovviamente più noti ma che ovviamente per la PAC hanno meno importanza come lo sviluppo di infrastrutture in particolare le zone costiere la gestione delle foreste e la modifica delle aree umide quindi sia questo dato ci dà già l'idea che per conservare la biodiversità dobbiamo agire in particolare sugli ecosistemi agrari ma cosa nell'ambito della minaccia azioni in agricoltura causa una riduzione una minaccia agli abitati alle specie in particolare l'abbandono dei prati l'abbandono della gestione dei prati e l'utilizzo di prodotti chimici sulle specie vegetali poi anche altri ma diciamo che si distacca questo parametro in modo principale non è un caso del resto che abbiamo avuto abbiamo notizie abbiamo informazioni sulla diminuzione di tante specie di uccelli e di mammiferi che deriva anche dalla diminuzione degli insetti che non trovano più determinate situazioni di particolare di presenza di fiori sulle coltivazioni erbacee questo spero si veda bene sono un po' piccole vi dà un'idea anche di come la conservazione degli habitat sia diversa fra gli stati membri dell'Unione Europea possiamo vedere che le nazioni che hanno una buona percentuale di habitat in buone condizioni sono ma non completamente diciamo quelle dove lo sviluppo economico è ovviamente un po' inferiore come la Romania l'Estonia la Grecia la Croazia però per esempio la Slovenia che non si può dire certo una nazione o anche un po' la Germania o la Finlandia di scarso sviluppo economico è in condizioni più favorevoli rispetto per esempio alla Bulgaria o all'Ungheria mentre ovviamente non ci fa piacere notare che il nostro paese si trova sicuramente in fondo è una percentuale intorno al 12% di habitat in buone condizioni e una percentuale ben più alta tra quelle in cattivo e in povero stato di conservazione anche abbiamo questo quadro anche a livello italiano prodotto dall'ISPRA in cui è stato esposto praticamente lo stato dell'applicazione delle direttive habitat e uccelli negli anni dal 2013 al 2018 e anche in questo caso abbiamo evidenza che le pressioni e le minacce più importanti sono quelle relative all'agricoltura oltre ovviamente a quello come abbiamo visto lo sviluppo e la costruzione di infrastrutture il cosiddetto consumo di suolo ma concentriamoci ovviamente dato che vogliamo parlare di come declinare in modo costruttivo per tutti coloro che hanno a cuore la conservazione della biodiversità negli abitati agricoli e le minacce derivanti dall'agricoltura anche a livello di specie trigger cioè di specie identificate come particolarmente sensibili vediamo che anche in questo caso l'agricoltura è il fattore più citato queste sono le raccolte di tutti i rapporti dei singoli stati membri messi insieme che danno un quadro generale nell'Unione Europea di com'è la situazione e quindi abbiamo anche per l'Italia una evidenza che anche sulle specie cosiddette di particolare importanza sia l'agricoltura quella che causa maggior pressione maggior minaccia il mondo dei cacciatori questo purtroppo in Italia non è conosciuto e un po' anche in questi contesti in cui si parla di modifiche di legge di impatto il mondo venatorio viene diciamo descritto viene considerato nella buona parte dei casi come una possibile soluzione al problema del contenimento della fauna oggetto di danni che causa danni all'agricoltura invece l'aspirazione di Federcaccia di quello che voglio fare oggi qui è di guidare la vostra attenzione verso le iniziative di conservazione degli abita perché sono qualcosa di poco noto ma di veramente importante e impattante sulla conservazione delle specie animali questo è un progetto della Federazione dei Cacciatori Europei che raccoglie tutti raccoglie quello che gli stati membri forniscono come iniziative in campo ambientale di campo di conservazione sono ad oggi al 2021 470 iniziative del mondo dei cacciatori distribuite in Europa e vedete che la Francia l'Italia e la Finlandia e il Regno Unito sono quelli che ne hanno forniti di più di questi sono 282 che hanno un aspetto che riguarda appunto la gestione la ricostituzione degli habitat mentre gli altri possono riguardare la ricerca o altri tipi di azioni conservative verso la fauna anche il mondo dei cacciatori si è dedicato ovviamente in maggior misura alle situazioni dei paesaggi agrari e in secondo luogo a quello delle zone umide sicuramente i due ambiti ambientali scusate il gioco che hanno maggiori pressioni maggiori minacce di scomparsa e di modifica non hanno avuto luogo solo in aree dove non c'è protezione ma anche in aree in qualche modo sottoposte a vincoli come i siti Natura 2000 aree di protezione nazionali e regionali o siti Ramsar quindi il mondo dei cacciatori in Europa attraverso questi 282 progetti sugli habitat si è impegnato anche in aree fuori da quelle della normale azione venatoria alcuni esempi che voglio farvi vedere i cacciatori francesi hanno messo a dimora 452.000 alberi in un arco temporale di 20 anni per un totale di 72 chilometri di siepi e 342 ettari di riforestazione in particolare gli habitat agrari della regione della Vandè in favore della specie tortora una specie giudicata in declino particolarmente marcato in Francia e in altre nazioni di quella reale in Slovacchia un'associazione di cacciatori ha fatto qualcosa di simile sempre piantumando siepi in un'area di circa mille ettari creando punti d'acqua e soprattutto anche quei prati naturali con miscugli erbaci con essenze floreali che favoriscono la presenza degli insetti impollinatori in particolare che si portano dietro poi la presenza di uccelli sia oggetto di caccia come il pagiano e i galliformi in generale ma anche gli uccelli insettivori che non sono oggetto di caccia in Grecia la federazione dei cacciatori ha negli anni dal 2005 al 2019 piantumato delle colture a perdere di girasoli o di altri semi idonei all'alimentazione della tortora per un totale di 110 mila ettari e circa due milioni di euro ovviamente e questo integrandolo con creazione di punti d'acqua e siepi permanenti tenete conto che questa specie è sotto la lente di ingrandimento dalla commissione con forte limitazione dell'attività venatoria in tutta Europa ancora in Belgio l'associazione dei cacciatori di questa cittadina di Limburg ha piantato 16 chilometri di siepi permanenti 12 ettari di foreste con ovviamente essenze autotone e importanti per la fauna selvatica non mancano in Italia faccio vedere alcuni esempi come questa cultura perdere di miscuglio sorgo con altre essenze in un ambito della provincia di Lodi oppure nella provincia di Terni abbiamo per la regione Umbria un esempio di qual è il contenuto economico di questi contributi elargiti dagli ambiti territoriali agli agricoltori vedete che assommano e sono in crescita a 240 mila euro su 690 ettari quindi parliamo comunque di un impatto importante in termini sia di cifre sia di estensione un altro esempio questo è un rapporto che abbiamo condotto noi come ufficio in queste quattro regioni dove è stato fatto questa inchiesta il mondo dei cacciatori gestisce un numero di zone umide le zone umide tra aziende faunistico-venatorie appostamenti fissi di caccia che si avvicina ai 25 mila ettari che possono essere appunto come dicevo aziende faunistico-venatorie tutti viene l'esempio della laguna di Venezia del delta Veneto del fiume Po appostamenti su aree naturali come può essere in Toscana l'area di Massaciupoli dove la manutenzione dei chiari è operata dai cacciatori oppure appostamenti su laghetti creati esattamente per questo scopo questo è un veloce filmato che vi fa vedere un'azienda faunistica della laguna di Venezia in cui proprio la specie moriglione giudicata in declino è stata oggetto questo laghetto proprio di creazione di avida per questa specie e nell'arco di circa vent'anni si è passati da circa 4.000 soggetti svernanti fino a 20.000 del 2020 con investimenti a totale carico del proprietario conduttore di questa azienda faunistico-venatoria di conseguenza guidato dall'interesse venatorio a pochi chilometri da questa sede dell'Accademia Georgoferi ci sono gli appostamenti fissi della Piana Fiorentina della Piana di Prato che offrono sicuramente l'habitat in un contesto fortemente urbanizzato fortemente antropizzato e dove non ci sono le costruzioni c'è l'agricoltura immaginate voi che se non ci fosse l'interesse venatorio queste aree sarebbero come minimo dei campi coltivati ma magari più facilmente un centro commerciale oppure un palazzo con le abitazioni quindi la presenza degli animali si verifica anche durante il periodo riproduttivo come possiamo vedere con queste folaghe o addirittura con specie a particolare interesse per la conservazione come la moretta tabaccata di cui due coppie hanno unidificato in quest'area questo tipo di avvenimento ve lo voglio fare vedere anche in un'altra regione del sud questo è un'area vicino al fiume a foce del fiume Amato alla Mezzia Terme questo è prima che un gruppo di cacciatori si interessasse a quest'area vedete che c'è un coltivazione intensive serre e un'area a coltivazione di erba medica prima dell'interesse dopodiché grazie all'investimento e all'interesse dei cacciatori sono stati creati questi due laghetti e vengono pagati gli affitti al proprietario e questo sicuramente ha incrementato il valore e la biodiversità di quest'area vedete questa è la fotografia oggi diversi anni dopo questi sono sempre i laghetti che vi ho fatto vedere guardate cosa accade a fianco di queste zone questa è una coltivazione intensiva di cipolla di tropea e così da queste altre parti ci sono serre e altre coltivazioni intensive l'angolo diciamo di conservazione naturale esiste ovviamente questa foce ma esiste qualcosa di ricostituito nell'ambito di un precedente paesaggio a fruttamento agricolo come la PAC oggi siamo qui per valutare come la nuova PAC può diventare uno strumento per il cambiamento favorevole della biodiversità di questi paesaggi il nostro parere è forse banale ma ci siamo accorti che primo di tutto devono essere previste delle misure che attirino gli agricoltori a investire devono essere considerati coloro che possono fare in qualche modo da mediatori farle conoscere stimolarle il mondo dei cacciatori può vivendo il territorio essere uno dei soggetti o probabilmente il più importante soggetto che può trasferire e stimolare incentivare il mondo agricolo a investire nelle misure che auspichiamo siano declinate nei singoli PSR regionali per incrementare la biodiversità ovviamente l'agricoltore deve percepire la biodiversità come un reddito quello che a nostro parere non è avvenuto nelle precedenti PAC nel precedente PSR regionali a nostro parere le opportunità sono gli ambiti territoriali di caccia e compressori alpini devono diventare soggetti partner per la gestione di questi fondi le associazioni venatorie devono diventare intermediari nel dialogo con gli agricoltori ovviamente le associazioni agricole a livello nazionale devono entrare decisamente in questo progetto e diventare loro stesse dall'alto stimolatrici di questi investimenti per i loro associati in questo modo credo che potremo avere qualche risultato bello come questo che vi ho fatto vedere prima per quanto riguarda l'area in Calabria in provincia di Lamezza in cui questo periodo di caccia chiusa questo laghetto mantenuto anche in questo periodo offre un momento di sosta alimentazione a questi migratori transariani Marzaiola in questo caso che provenendo dall'Africa hanno trovato in quest'area una sosta un momento di alimentazione indisturbato perché la caccia è chiusa che altrimenti avrebbero sorvolato completamente questo è il messaggio che volevo darvi e credo che l'Accademia e tutti i professori che mi hanno preceduto possano diventare portatori di questo messaggio magari con un impatto superiore a quello che il mondo semplice dei cacciatori possa andare a proporre e fare diventare i cacciatori partner della nuova declinazione della PAC a livello regionale e quindi del risultato che tutti noi vogliamo portare a casa grazie 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 al dottor Michele Sorrenti per il contributo che ci ha dato e passo la parola al dottor Michele Bottazzo sempre dalla federazione italiana della caccia che ci parlerà dell'ambiente agricolo e fa una selvatica considerazioni e proposte per la prossima PAC grazie mi unisco anch'io ai ringraziamenti per questa parte dell'accademia per questa opportunità sì parlerò di quale quali sono le iniziative di feder caccia per quanto riguarda la prossima PAC e quali sono le proposte che si vorrebbe all'interno parte tutto da una considerazione che abbiamo fatto qualche anno fa era quello di rendersi conto che specialmente quando abbiamo cominciato a collaborare con la PAC per le azioni di lobby di seguire gli sviluppi delle politiche agricole che il mondo venatorio in Europa e all'estero è molto presente nelle discussioni a livello nazionale invece in Italia ci siamo resi conto che mancava manca questa figura in tutti i momenti in cui vengono decise attuate le politiche agricole e calcolate che invece l'Europa stimola cerca di fare che sia sempre più condivise le discussioni a livello locale come sapete PAC viene ok viene decisa a livello europeo però viene plasmata e i vari stati membri hanno un grande margine di modificare adeguarla e partner come i cacciatori non ci sono quindi siamo partiti da questo punto qui e per la successiva PAC la prossima PAC abbiamo deciso pratica di essere un po' più presenti su questo e di lavorare in questo modo come l'abbiamo fatto abbiamo seguito alcuni percorsi il principale è quello di stilare noi delle proposte delle misure degli interventi per la prossima PAC e questo come abbiamo fatto valutando le precedenti la precedente PAC quali sono state fatte quali erano le misure che hanno avuto successo dove invece c'erano state delle difficoltà e modificare chiaramente vedendo anche gli sviluppi della nuova quindi nuovi obiettivi strategici con queste valutazioni e poi soprattutto abbiamo cercato di entrare nelle discussioni sia a livello regionale sia a livello nazionale dei vari tavoli di paternamiato su alcune regioni siamo riusciti entrare e dare anche un nostro contributo tecnico e poi in parallelo anche un'attività sperimentale dimostrativa tutte le azioni che facciamo quello che ha presentato il mio collega precedentemente che con le varie ATC o anche progetti di Federgancia facciamo già attività che potrebbe rientrare pienamente negli obiettivi della prossima PAC e quindi di renderli diciamo pubblici oppure sperimentare anche noi ulteriormente proposte e contributi per la PAC cosa abbiamo fatto nella sostanza nella sostanza sì quello che ho detto abbiamo fatto una selezione di quali erano quelle che erano già presenti in gran parte erano già quelli presenti nelle precedenti PSR che se riguardate le varie regioni ce n'è un'ampia scelta però qualcosa è mancato perché se non sono state applicate se non abbiamo avuto forti miglioramenti quindi qualche errore c'era e quindi un'analisi critica diciamo su questo l'abbiamo fatto con un gruppo uno staff di tecnici a livello nazionale distribuiti geograficamente proprio perché abbiamo delle realtà geografiche molto diverse e quindi necessità molto diverse dal territorio del territorio ma soprattutto abbiamo cercato di selezionare quelle misure quegli interventi che devono in qualche maniera essere accettati anche dal mondo venatorio se no è inutile possiamo mettere sulla carta tantissime prendere un qualsiasi manuale delle buone pratiche agricole ma se dopo non c'è il mondo agricolo che le accetta e le realizza praticamente non è quindi abbiamo fatto una selezione proprio in base a questo prima di tutto chiaramente abbiamo dovuto fare un'attenta analisi di che ambiente agricolo ci troviamo a livello nazionale e qui vado veloce il nostro territorio agrario è meraviglioso da questo punto di vista perché ha una variabilità elevatissima su un territorio così piccolo variazioni geografiche elevate dal nord al sud quindi coltivazioni molto diverse dal territorio questa è la nostra ricchezza che chiaramente dobbiamo conservare e preservare il più possibile purtroppo questa variabilità porta anche a grossi problemi tipo di divari molto forti dello sviluppo economico sulle varie realtà ci sono zone dove praticamente c'è un'agricoltura intensiva che macina chiaramente economicamente molto forte contro altre che invece sono in sofferenza e questo porta un altro problema a quella della marginalità e di abbandono di tanti terreni agricoli le nostre aziende agricole stanno sempre più diminuendo tra l'altro perdiamo zone agricole sulle zone più pregiate dal punto di vista naturalistico le zone magari di collina agricoltura di collina di montagna si è detto più volte che le foreste aumentano purtroppo ma aumentano anche a discapito dell'agricoltura e quindi questo salvaguardare diciamo la marginalità dell'agricoltura è importante poi perdita anche di presidio ma tra tutti i problemi quello che chiaramente sentiamo maggiormente non sentiamo solo noi ma è evidente è il modestissimo livello della qualità ambientale che è la nostra agricoltura dovuta agli anni passati perché si è spinto un'agricoltura sempre più semplificata e che facesse reddito e basta e anche colpa delle politiche europee passate che non sono state così incisive e siamo arrivati a un livello una situazione estremamente modesta e questo ce lo dice anche la bifauna degli ambienti agrari che è come ha presentato anche il mio collega precedentemente quella una delle la categoria più a rischio tra tutte con le varie ricerche che sono state fatte tra cui il Farman Bird Index che dice che è stata fatta a tutto il livello europeo mi dice analizzando le varie specie di varie categorie tra cui quelle agrarie abbiamo avuto un calo nell'ultimo ventennio del 28 quasi 30% 28,8% delle specie degli uccelli e questo purtroppo è una situazione che è avvenuta in tutta Europa quindi non è soltanto un mare nostro e questo è un problema agrario molto forte per contro invece abbiamo avuto un aumento della bifauna sugli ambienti forestali perché non solo aumentano le superfici forestali a noi ma migliorano anche dal punto di vista strutturale perché i boschi invecchiano e c'è maggiore composizione quindi tra l'altro abbiamo anche aumenti anche di avifauna nelle aree umide nelle aree naturali quindi soltanto quelle agricole sono quelle più a rischio ecco perché investire su questo anche qui per contro però invece abbiamo un aumento sostenuto dei danni sulla fauna selvatica e ambienti e crari che qui non mi dilungo perché è stato parlato più ampio non soltanto avifauna anzi sono altre categorie quelle che creano problemi aggiungerei soltanto il fatto che purtroppo questo problema è sempre stato affrontato soltanto dal punto di vista emergenziale cioè solo quando c'era il problema che si toccava con mano manca a nostro avviso anche una invece una programmazione una pianificazione lungo tempo o per vasti territori per affrontare questo problema che chiaramente è un problema che abbiamo adesso ma ci sarà sempre di più nel futuro arriviamo al nostro documento che abbiamo stilato questo documento interno che comunque abbiamo condiviso anche con siamo confrontati col mondo agricolo proprio per vedere se queste iniziative potevano essere anche accettate e abbiamo individuato 18 praticamente misure che abbiamo tutti descritti classificate sia per gli interventi nel primo pilastro cioè gli aiuti a superficie o gli ecoschemi gli interventi invece nel secondo pilastro quello di sviluppo rurale e anche altre azioni che invece sono trasversali l'elenco soltanto anche perché sono anche semplici diciamo per quanto riguarda il primo pilastro abbiamo inserito la coltivazione di seminativi per piccole superfici chiaramente più frantumo la superficie più creo ecotono e quindi ha un vantaggio per la fauna selvatica l'aumento volontario della superficie a greening è previsto che i stati membri possono aumentare i livelli che invece sono stati decisi a Bruxelles rotazione delle culture miglioratrici già previsto anche questo se però mettiamo alcune culture particolarmente favorevoli leguminosi prati girasole possono avere ulteriore vantaggio rilascio di stoppie e posticipazione aratura mantenere il terreno erbato più a lungo margini multifunzionali a perdere la protezione e valorizzazione di prati pascoli chiaramente prendere delle misure per una maggiore gestione di queste aree il ritiro pluriannale dei terreni con il mantenimento e gestione di copertura vegetale fino alla valorizzazione degli inclusi aperti nelle aree boscate l'unica misura forestale che abbiamo inserita cioè mantenere le zone aperte all'interno di queste aree boscate tra tutte queste ne abbiamo scelte due che riteniamo adesso vado a descrivere le più importanti che sono il rilascio delle stoppie e posticipazione dell'aratura perché si tratta di un'azione sostanzialmente molto semplice che consiste nel non lavorare non arare praticamente subito il terreno dopo la raccolta dei cereali autunno-vernini del frumento per eccellenza anche perché di solito c'è la cultura poi la prima la prima vera dell'anno dopo quindi mantenere praticamente non arato il terreno fino a febbraio o marzo in questo periodo viene concesso soltanto operazioni di trinciatura di serbi meccanici e semine eventuali di copertura di cover crops in questa maniera qui non perde praticamente la coltivazione già prevista nel caso ci sia invece una coltivazione diretta successiva anche nell'atuno allora con premi minori mantenerlo almeno fino a settembre fino a settembre in questo caso i vantaggi sono notevoli primo di tutto è che non si perdono produttività agricola ma per la fauna chiaramente sono altissimi per un lungo periodo che va dall'estate autunno inverno e poi ho anche risparmi dal punto di vista agronomico perché ho minori lavorazioni meno erosione più sostanza organica per il suolo devo essere chiaramente un po' più attento per gestione delle malerbe degli infestanti però a seconda del vario territorio e a seconda del terreno si possono fare l'altra azione che riteniamo importante sono i margini multifunzionali a perdere sono le strisce di habitat faunistici classici pratti stabili siepi pitelbank oppure formazioni miste anche questi prevederli in un minimo chiaramente del terreno perché abbiano una funzionalità devono essere almeno 5-7% delle aree coltivabili e chiaramente verranno dati premi diversi a seconda della complessità se è solo prato prato con siepe e altro vanno valutati poi di territorio in territorio gli unici obblighi di mantenerlo più anni chiaramente questi interventi perché abbiano un senso e un minimo di gestione che si tratta proprio di sfalci chiaramente fatti non in periodi in cui si possono dare la fauna ma vanno gestiti ecco non vanno abbandonati anche qui dal punto di vista di vantaggi ne ho tantissimi qui non soltanto per la fauna di interesse venatorio ma per tutta la fauna e per tutto l'anno anche la fauna inferiore e anche gli insetti che ne abbiamo parlato più volte tra l'altro ho una riduzione in questo caso ho una riduzione dei terreni coltivabili perché vado a incidere però è minore del 5-7% che dico perché possono posso fare posso integrare anche le tare praticamente delle zone agricole quindi è una superficie minore utilissima anche per il biologico quindi sicuramente è una delle azioni che vorremmo portare avanti passiamo a quelle degli interventi del secondo pilastro anche qui li elenco prevenzione danni e danni della fauna selvatica noi abbiamo parlato tantissimo incentivi per le aree marginali dare incentivi in più per le zone di agricoltura dove si stanno perdendo coltura a perdere per la fauna che sono le classiche agriturismi fattorie didattiche dove si vengono promossi ma si può promuovere anche la cultura penatoria su questo ripristino chiaramente di zone umide e torbiere boschi planiziali siepi da fare soltanto in zone dove c'è un'agricoltura intensiva di certo non promuovere le soluzioni di montagna o collina che hanno già un'elevata boscosità anche qui abbiamo individuato due di queste azioni che riteniamo tra tutte quelle da portare più avanti una è il discorso di prevenzione danni da fauna selvatica qui corro un po' più veloce ecco da studiare chiaramente dei fondi per sistemi di difesa ma soprattutto incentivare forme di aggregazione per aree molto più ampie di gestione e soprattutto la pianificazione a lungo termine e poi ecco assicurare se ci sia forme assicurazioni anche l'assicurazione abbiamo parlato però per certe tipologie di danni tipo questa immagine che ho messo sul mais fatta da uccelli o altro può essere più utile un fondo di assicurazione che tante altre misure e poi anche valutare sempre all'interno del minore quali possono essere cinti selettivi per non fare oppure anche che siano accessibili dopo la raccolta passiamo alla cultura a perdere per la fauna anche qui chiaramente andranno individuate quale sono a seconda delle zone geografiche del nostro territorio quale sono le culture da sostenere cercando di selezionare chiaramente cultivar idonee nell'area ma soprattutto siccome sono questi sono tratta di interventi abbastanza costosi perché vado a perdere chiaramente la produttività agraria di quel territorio di farli soltanto in zone dove ci siano vincolarli dicendo dei piani di azioni per incrementare per l'incremento faunistico non farli a caso ovunque ma se c'è un programma di valorizzazione faunistica fare in questo nei vecchi piani nei vecchi PSR veniva data prevalenza alle zone di rete natura 2000 parchi o riserve in questo caso sarebbe ad allargarlo anche ad altri istituti di protezione come sono le osi zone di ripopolamento cattura valichi o siti dunque le rotte di migrazione tra tutte però queste azioni vado per concludere quella che riteniamo comunque più importante è quello che ha anche accennato poco prima il dottor Sorrenti è l'accreditamento degli ATC e dei comprensori di caccia cioè di individuare gli ambiti di territorio di caccia i comprensori di caccia come le strutture che possono essere accreditate a svolgere il ruolo di capofila per i PSR e per chiaramente finalità ambientali e faunistiche fraunistiche in particolare per tutti quei progetti in aree marginali dove ci sono piccoli proprietari oppure per compressori molto ampi è già un lavoro che fanno attenzione gli ATC perché già è previsto nel loro compito di fare interventi di miglioramento ambientale però lo possono fare in zone in particolare dove abbiamo paura di perdere zone dell'agricoltura inoltre dare priorità a quegli ATC giusto per incentivarli che mettono i propri fondi perché li hanno oppure fanno progetti paralleli a interventi di misurazione del PSR e quindi si possono soprattutto lo vedrei proprio nell'agricoltura in zone di agricoltura marginale e nelle piccole proprietà che altrimenti non riuscirebbero a accedere ai PSR vi faccio soltanto finire con un esempio di un ATC qua proprio della Toscana uno degli ATC che ritengo virtuosi che hanno fatto un'azione da qualche anno di ripristino e conservazione di terreni agricoli abbandonati nel loro territorio cosa hanno fatto sostanzialmente sono arrivati già a 100 ettari che mantengono di anno in anno di zone agricole che si stavano perdendo questa era una zona terrazzata all'interno di zone boscate state coltivate per tantissimo tempo che poi erano abbandonate erano piene di arbusti e li hanno ripristinati a zone agricole calcolate che questo con le varie leggi regionali se un terreno viene abbandonato agricolo dopo un totti anni viene rimboschito quello viene vincolato da zona boscata quindi non torna più agricoltura quindi qui stanno facendo un'azione non parlo neanche dei benefici faunistici io sto parlando adesso dei benefici ambientali che sta facendo sta conservando dei terreni agricoli anzi gli agricoltori che sono proprietari di questo terreno prendono più premi PAC perché hanno più superficie lavorata di prima quindi gli conviene anche da questo punto di vista tra le altre azioni che finanzia questa TC finanziano anche gli alberi da frutto varietà rustiche che chiaramente sono per la fauna alcune le pianta ma alcune le ripristiano quelle che sono già presenti punti d'acqua ripristino punti d'acqua sempre legati al mondo agricolo che erano quelli presenti che chiaramente per la fauna sono importanti sentieristica anche quindi la viabilità per arrivare alla zona e quindi tutti tra l'altro lavori che fanno direttamente le squadre dei cinghialai per gli animali però come vi dicevo hanno un vantaggio che io considero altissimo per anche chi non è il cacciatore perché chiaramente conservano zone mantengono superficie agricole che altrimenti verrebbero cancellate non solo perché vengono rimboschite ma anche dal punto di vista legislativo perché dopo un tot del periodo diventano bosco per la biodiversità chiaramente creo di valori molto elevati o anche funzionare tanti incendi o le ultime normative che stanno discutendo sulle quest'anno stato il disastro per gli incendi parlano proprio di mantenere pulito le zone agricole proprio perché sono base di innesco e poi anche dal punto di vista chiaramente paesaggistico culturale mi raccontavano che in questa zona qui dopo i loro interventi hanno aperto sentieri povie e altro proprio per accedere a queste zone qui quindi dei vantaggi estanzissimi conclusione l'ultima conclusione con un po' di amarezza noi abbiamo fatto tutto questo lavoro qui però abbiamo scontrato una notevole difficoltà di Fetelcaccia ma di tutti i canciatori di entrare nei tavoli di discussione sia regionale che nazionale in alcune regioni siamo riusciti a entrare 4-5 in tutto a livello nazionale in 2 siamo addirittura diventati parte attiva abbiamo fatto delle proposte che sono state accettate a livello nazionale purtroppo non siamo stati ascoltati si sta discutendo del piano strategico nazionale il ministro d'aprile quando ha aperto il tavolo ha detto che spero in un'ampia partecipazione anche esterna abbiamo fatto più di una richiesta ed è rimasto in vana noi comunque continuiamo grazie a tutti grazie 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 dottor Bottazzo per questa altra apertura che ci ha illustrato prima di iniziare il dibattito volevo poi ricordare e i relatori di inmiare inmiare qui al segretario di questa riunione al professor Francesco Sorbetti Guerri le loro memorie in modo tale che si possa incominciare a predisporre perché è prevista la pubblicazione con il sostegno della della FederCaccia è prevista la pubblicazione di un quaderno così resta memoria di questa giornata a questo punto io apro il dibattito tra i presenti e poi se Simone c'è qualcuno che si prenota il dottor Moreno Periccioli Buonasera a tutti io brevissimamente perché non ho niente di particolarmente intelligente da aggiungere al dibattito al convegno che c'è stato ma per un dovere che è quello di che sento vivamente di ringraziare l'Accademia dal Presidente Professor Massimo Vincenzini che non non ce l'ha fatta ad essere tra noi al Vice Presidente Professor Alpi che per primo ho interpellato per verificare la possibilità approfittando un po' della nostra amicizia antica sulla possibilità di collaborazione attorno a questi temi tra la Federcaccia e l'Accademia il Professor Lamarca che stasera presiede il nostro convegno che per primo ha proposto questo convegno io voglio ringraziare anche i relatori per l'indiscutibile livello scientifico delle loro comunicazioni per ognuno di noi è ampliamento della conoscenza è crescita della consapevolezza attorno a temi cruciali per l'ambiente l'agricoltura la fauna chiunque voglia affrontare questi temi ha in queste relazioni negli spunti che sono stati trattati un approfondimento obbligatorio lo scenario che abbiamo di fronte impone al mondo venatorio uno sforzo eccezionale per cogliere l'occasione straordinaria e forse irripetibile per dare una nuova legittimazione sociale e culturale alla caccia l'obiettivo non può che essere quello di costruire le condizioni per una caccia basata sempre di più su scienza conoscenza responsabilità un ruolo del cacciatore pienamente dentro alla tutela dell'ambiente della biodiversità dell'economia e della animazione rurale la nuova PAC e gli atti concreti che definiranno la strategia della biodiversità dell'Unione Europea sono per noi una sfida positiva alla quale rispondere gli obiettivi del Green Deal sono obiettivi condivisi dai cittadini cacciatori sono un nostro impegno abbiamo sentito ringrazio anche personalmente loro che hanno rappresentato degnamente la federazione nelle relazioni del dottor Sorrente e del dottor Bottazzo che ci poniamo non da ora un tema di tutela del patrimonio faunistico e insieme di ripristino degli equilibri ambientali agrari che ne favoriscono la conservazione e la reintroduzione il professor Apollonio ci ha descritto con puntualità il fenomeno della delle del ah scusate degli ungulati e del lupo in una crescita di una crescita esponenziale ed oggi non sostenibile che deriva dalla storia ambientale sociale dei diversi paesi che ha una ragione bisogna però anche dirci e qualche relatore l'ha richiamato che la legge che regola oggi la caccia e in parte la tutela della fauna non ha tra le finalità né la tutela della biodiversità né la sostenibilità del carico faunistico in relazione all'ambiente agrario o forestale e alle attività umane parla genericamente e certamente in modo appropriato per l'epoca di tutela della conservazione della fauna non di gestione e di conservazione non solo dalla caccia e negli attici ha come c'è stato spiegato molto bene bisogno anche di un tagliando che ne consenta chiarezza nelle competenze è necessario dunque a mio avviso un cambiamento della legge che mantenendo la caccia al suo storico profilo popolare ne rafforza e ne renda attuale le finalità e l'impianto tecnico e scientifico avevo letto mesi fa un articolo interessante su una rivista del settore caccia magazine avevo letto dichiarazioni di esponenti di primo piano del mondo agricolo che affermano passare dalla tutela alla gestione della fauna affermazione del presidente della scia gestione degli atti tra agricoltori e cacciatori col diretti dottor masini cacciatori agricoltori un rapporto necessario una collaborazione obbligata confagricoltura dottor postorino oggi ho sentito sempre il dottor postorino e anche il pascucci il dottor pascucci dire cose che io reputo importanti un nuovo patto ha detto Franco postorino è questo il senso profondo l'obiettivo di una riforma come questa che incide sull'ambiente che divide le sensibilità un nuovo patto non so se la politica come lui teme non potrà fare a caccia di consensi quella Franco è la cattiva politica come ci ha ricordato proprio in questi giorni Draghi citando la malfa che evocava il coraggio delle riforme contro il non governo sembrano oggi esserci non solo tutte le motivazioni che ci dà la storia mutata sociale l'ambiente potato ma anche le condizioni di base di un ragionamento da aprire con il mondo agricolo per sviluppare un confronto attorno a una riforma che a mio avviso parta da due pilastri che considero essenziali la proprietà pubblica della fauna e l'articolo 842 del codice civile ma che si interromi su tutto il resto in modo aperto un punto il modello di gestione dell'artic è un modello superato dai fatti come è superata la cultura consociativa che ne determinò la nascita che ci azzeccano i comuni dentro gli ATC che ci azzeccano che ci azzeccano gli ambientalisti dentro gli ATC abbiano e siano rafforzati gli strumenti di relazione di controllo di trasparenza nelle azioni ma i veri stakeholder dell'ambiente della fauna non sono e non possono essere altri che cacciatori e agricoltori una gestione di questo genere può essere a mio avviso la ricetta vincente e ancora un patto su territori rurali green communities ma non solo tra cacciatori e agricoltori per realizzare una filiera vera di valorizzazione della selvaggina prelevata il cui valore opportunamente redistribuito può trasformarsi in una straordinaria opportunità di reddito con ricadute positive sulla gestione faunistica ed ancora la riduzione drastica dei cacciatori praticanti rende obsoleta la visione degli ATC come strumento di legame forzioso del cacciatore al territorio ripensare le dimensioni degli ATC come territorio che ogni cacciatore senta proprio nel quale sia protagonista interessato ed attiva la gestione codecisore responsabile del perlievo può essere la nuova frontiera definire forme di modalità controllata e sostenibile oggi è possibile ed utile avanzo ed è per questo ho preso la parola e mi scuserete una proposta all'Accademia dei georgofidi che a me pare coerente con il motto che compare nello storico stemma prosperitate pubbliche ausente il ruolo dell'accademia come si legge nel sito istituzionale negli oltre 250 anni di attività è rimasto immutato i georgofili raccolgono nuove acquisizioni scientifiche e nuove idee per approfondirle e discuterle anche pubblicamente da queste attività essi traggono aggiornate sintesi da divulgare ponendole all'attenzione di coloro quali spetta il compito di utilizzarle a fini economici e sociali secondo scelte politiche responsabili potremmo chiedere all'Accademia che dispone come diceva il compianto presidente professor Scaramuzzi di un capitale sociale straordinario costituito dall'insieme di accademici che è di fondamentale importanza e di assoluto valore scientifico di organizzare una riflessione attorno ai 30 anni della 157 i cambiamenti climatici e faunistici l'esperienza della gestione faunistica negli ATC la Unione europea e la fauna selvatica tra tutela e gestione questi potrebbero essere tre punti di approfondimento scientifico se accanto agli accademici si riuscisse a coinvolgere esponenti del mondo ambientalista del mondo agricolo e del mondo venatorio le sintesi che potremmo trarre sarebbero indiscutibili dal punto di vista scientifico e rilevanti dal punto di vista della condivisione e l'Accademia ha il prestigio per essere punto di incontro di confronto e di sintesi chissà potremmo mettere le conclusioni di questo lavoro a disposizione dei decisori con un titolo prosperitati pubbliche ausente grazie 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 al dottor Periccioli anche questa mi pare un'ottima un'ottima idea speriamo che questo sia l'inizio di un'attività diciamo che va a crescere e che possa rappresentare l'Accademia ha sempre tenuto diciamo in grande considerazione i problemi dell'agricoltura e anche stasera a me ha fatto molto piacere questo questa trasversalità che c'è stata soprattutto con la presenza di validi di valenti giuristi che a mio avviso hanno dato un supporto che noi tecnici normalmente diciamo non riusciamo a vedere nelle sfaccettature che questa sera abbiamo sentito quindi c'è bisogno proprio di questa compenetrazione di saperi l'Accademia fortunatamente ha al suo interno e gode del supporto di tantissime professionalità che possano contribuire a fare proposte poi l'Accademia e questo è il ruolo che ha quello di animare il dibattito intorno ai problemi che interessano l'agricoltura senza vato sempre da una posizione diciamo di rivievo sempre da una posizione terza grazie